Al terzo rintocco saranno le 14, 59 minuti e 10 secondi. Al terzo rintocco saranno le 14, 59 minuti e 20 secondi. Al terzo rintocco saranno le 14, 59 minuti e 30 secondi. Al terzo rintocco saranno le 14, 59 minuti e 40 secondi. Al terzo rintocco saranno le 14, 59 minuti e 50 secondi. Al terzo rintocco saranno le 15 in punto. Al terzo rintocco saranno le 15 e 10 secondi. Al terzo rintocco saranno le 15 e 20 secondi. Al terzo rintocco saranno le 15 e 40 secondi. Al terzo rintocco saranno le 15 e 50 secondi. e 50 secondi 3 ton 15 uhr 1 minuto 0 secondi 3 ton 15 uhr 1 minuto 10 secondi 3 ton 15 uhr 1 minuto 20 secondi 3 ton 15 uhr 1 minuto 30 secondi 3 ton 15 uhr 1 minuto 40 secondi 3 ton ist es 15 uhr 1 minuto und 50 sekunden Kijasa 3 ton ist es 15 uhr 2 minuto und 0 sekunden 2 minuto 3 minuto 3 ton ist es 15 uhr 2 minuto und 10 sekunden 3 ton 3 ton ist es 15 uhr 2 minuto und 20 sekunden 5 minuto 3 minuto 3 minuto beim dritten ton ist es 15 uhr 2 minuto und 50 sekunden 3 minuto 3 minuto 3 minuto e 20 secondi beim dritten ton ist es 15 uhr 3 minuten und 30 secondi beim dritten ton ist es 15 uhr 3 minuten und 40 secondi beim dritten ton ist es 15 uhr 3 minuten und 50 secondi beim dritten ton ist es 15 uhr 4 minuten und 0 secondi beim dritten ton ist es 15 uhr 4 minuten und 10 secunden beim dritten ton ist es 15 uhr 4 minuto e 20 sec. 3. ton è 15 minuto 4 minuto e 30 sec. 3. ton è 15 minuto 4 minuto e 40 sec. 3. ton è 15 minuto 4 minuto e 50 sec. 3. ton è 15 minuto 5 minuto e 0 sec. 3. ton è 15 minuto 5 minuto e 10 sec. 5 minuto e 40 sec. 3. ton 6 minuto e 10 sec. 3. ton è 15 minuto e 10 sec. 6 minuto e 50 sec. 3. ton 5 minuto e 10 sec. 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 5 minuto emente 6 minuto e Saturday 5 minuto e 30 sec. 5 minuto e 90 sec. 5 minuto e 10 sec. 6 minuto e 30 sec. 3 3 3 8 30 10 10 10 10 10 10 10 13 15 8 15 15 15 15 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 15 10 10 10 10 10 10 10 10 3. Ton è 15.00, 9.00, 40.00. 3. Ton è 15.00, 9.00, 50.00. 3. Ton è 15.00, 10.00, 0.00. 3. Ton è 15.00, 10.00, 10.00. 3. Ton è 15.00, 10.00, 20.00. 3. Otrut del Svonso è 15.00, 10.00, 30.00. 3. Ton è 15.00, 10.00, 40.00. 3. Ton è 15.00, 10.00, 50.00. 3. Ton è 15.00, 11.00. Il tempo sarà 20 secondi. Precisamente. Ma treggiore otcucità di zono, viti se togno 15 sati, 11 minuta e 10 secondi. Na treggiore otcucità di zono, viti se togno 15 sati, 11 minuta e 20 secondi. Na treggiore otcucità di zono, viti se togno 15 sati, 11 minuta e 30 secondi. Na treggiore otcucità di zono, viti se togno 15 sati, 11 minuta e 40 secondi. Na treggiore otcucità di zono, viti se togno 15 sati, 11 minuta e 50 secondi. Na treggiore otcucità di zono, viti se togno 15 sati, 12 minuta e 10 secondi. Na treggiore otcucità di zono, viti se togno 15 sati, 12 minuta e 20 secondi. Na treggiore otcucità di zono, viti se togno 15 sati, 12 minuta e 30 secondi. Na treggiore otcucità di zono, viti se togno 15 sati, 12 minuta e 40 secondi. Na treggiore otcucità di zono, viti se togno 15 sati, 12 minuta e 50 secondi. Na treggiore otcucità di zono, viti se togno 15 sati, 13 minuta e 10 secondi. Na treggiore otcucità di zono, viti se togno 15 sati, 13 minuta e 30 secondi. Na treggiore otcucità di zono, viti se togno 15 sati, 13 minuta e 30 secondi. Na treggiore otcucità di zono, viti se togno 15 sati, 13 minuta e 40 secondi. Na treggiore otcucità di zono, viti se togno 15 sati, 13 minuta e 50 secondi. Na treggiore otcucità di zono, viti se togno 15 sati e 14 minuta. Na treggiore otcucità di zono, viti se togno 15 sati, 14 minuta e 30 secondi. Na treggiore otcucità di zono, viti se togno 15 sati, 14 minuta e 30 secondi. Na treggiore otcucità di zono, viti se togno 15 sati, 14 minuta e 30 secondi. Na treggiore otcucità di zono, viti se togno 15 sati, 14 minuta e 30 secondi. rays la mostra una trattata ha la trattata Il primo punto è di 15 ore, 14 minuti e 50 secondi. Il primo punto è di 15 ore, 15 minuti e 15 minuti. Il primo punto è di 15 ore, 15 minuti e 10 secondi. Il primo punto è di 15 ore, 15 minuti e 20 secondi. Il primo punto è di 15 ore, 15 minuti e 30 secondi. Il primo punto è di 15 ore, 15 minuti e 40 secondi. Il primo punto è di 15 ore, 15 minuti e 50 secondi. Il primo punto è di 15 ore, 15 minuti e 50 secondi. Il primo punto è di 15 ore, 15 minuti e 20 secondi. Il primo punto è di 15 ore, 15 minuti e 30 secondi. Il primo punto è di 15 ore, 15 minuti e 40 secondi. Il primo punto è di 15 ore, 15 minuti e 50 secondi. Il primo punto è di 15 ore, 15 minuti e 50 secondi. Il primo punto è di 15 ore, 15 minuti e 30 secondi. Il primo punto è di 15 ore, 15 ore, 15 minuti e 30 secondi. Il primo punto è di 15 ore, 15 minuti e 40 secondi. Il primo punto è di 15 ore, 15 minuti e 40 secondi. Il primo punto è di 15 ore, 15 ore, 15 minuti e 40 secondi. Il primo punto è di 15 ore, 15 ore, 15 minuti e 40 secondi. Il primo punto è di 15 ore, 15 ore, 15 minuti e 50 secondi. 3. Otrice di zvono, 15. 19. 3. Otrice di zvono, 15. 19. 20. 3. Otrice di zvono, 15. 19. 20. 3. Otrice di zvono, 15. 19. 30. 3. Otrice di zvono, 15. 19. 40. 3. Otrice di zvono, 15. 19. 50. 4. Otrice di zvono, 15. 20. 5. Otrice di zvono, 15. 20. 5. Otrice di zvono, 15. 20. 6. Otrice di zvono, 15. 20. 6. Otrice di zvono, 15. 20. 7. Otrice di zvono, 15. 20. 7. Otrice di zvono, 15. 20. . 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 takli . . . . . . 30 secondi 3 ottocca zvona 15 sati 21 minuta 40 secondi 3 ottocca zvona 15 sati 21 minuta 50 secondi 3 ottocca zvona 15 sati 22 minuta na 3 ottocca zvona 15 sati 22 minuta i 10 sec 30 secondi 35 secondi 30 secondi 25 secondi 30 secondi 30 secondi 30 thirdi 30 secondi Biti će toccno 15 sati, 22 minute i 30 secondi. Na treggi otkut se zvona, biti će toccno 15 sati, 22 minute i 40 secondi. Na treggi otkut se zvona, biti će toccno 15 sati, 22 minute i 50 secondi. Na treći otkut se zvona, biti će toccno 15 sati, 23 minute i 10 secondi. Na treći otkut se zvona, biti će toccno 15 sati, 23 minute i 20 secondi. Na treći otkut se zvona, biti će toccno 15 sati, 23 minute i 30 secondi. Na treći otkut se zvona, biti će toccno 15 sati, 23 minute i 40 secondi. Na treći otkut se zvona, biti će toccno 15 sati, 23 minute i 50 secondi. Na treći otkut se zvona, biti će toccno 15 sati, 24 minute. Na treći otkut se zvona, biti će toccno 15 sati, 24 minute i 20 secondi. Na treći otkut se zvona, biti će toccno 15 sati, 24 minute i 20 secondi. Na treći otkut se zvona, biti će toccno 15 sati, 24 minute i 40 secondi. Na treći otkut se zvona, biti će toccno 15 sati, 24 minute i 40 secondi. Na treći otkut se zvona, biti će toccno 15 sati, 24 minute i 40 secondi. Na treći otkut se zvona, biti će toccno 15 sati, 25 minute. Na treći otkut se zvona, biti će toccno 15 sati, 25 minute i 20 secondi. Na treći otkut se zvona, biti će toccno 15 sati, 25 minute i 20 secondi. Na treći otkut se zvona, biti će toccno 15 sati, 25 minute i 40 secondi. Na treći otkut se zvona, biti će toccno 15 sati, 25 minute i 40 secondi. Na treći otkut se zvona, biti će toccno 15 sati, 26 minute i 10 secondi. Na treći otkut se zvona, biti će toccno 15 sati, 26 minute i 30 secondi. Na treći otkut se zvona, biti će toccno 15 sati, 26 minute i 30 secondi. Na treći otkut se zvona, biti će toccno 15 sati, 26 minute i 50 secondi. Na treći otkut se zvona, biti će toccno 15 sati, 26 minute i 50 secondi. Na treći otkut se zvona, biti će toccno 15 sati i 27 minute. Na treći otkut se zvona, biti će toccno 15 sati, 27 minute i 20 secondi. Na treći otkut se zvona, biti će toccno 15 sati, 27 minute i 20 secondi. Na treći otkut se zvona, biti će toccno 15 sati, 27 minute i 30 secondi. Na treći otkut se zvona, biti će toccno 15 sati, 27 minute i 40 secondi. Na treći otkut se zvona, biti će toccno 15 sati, 28 minute. Na treći otkut se zvona, biti će toccno 15 sati, 28 minute i 10 secondi. Na treći otkut se zvona, biti će toccno 15 sati, 28 minute i 30 secondi. Na treći otkut se zvona, biti će toccno 15 sati, 28 minute i 40 secondi. Na treći otkut se zvona, biti će toccno 15 sati, 28 minute i 50 secondi. Na treći otkut se zvona, biti će toccno 15 sati, 29 minute i 10 secondi. Na treći otkut se zvona, biti će toccno 15 sati, 29 minute i 30 secondi. Na treći otkut se zvona, biti će toccno 15 sati, 29 minute i 40 secondi. Na treći otkut se zvona, biti će toccno 15 sati, 29 minute i 50 secondi. Na treći otkut se zvona, biti će toccno 15 sati i 30 minute. Na treći otkut se zvona, biti će toccno 15 sati, 30 minute i 20 secondi. Na treći otkut se zvona, biti će toccno 15 sati, 30 minute i 30 secondi. Na treći otkut se zvona, biti će toccno 15 sati, 30 minute i 30 secondi. Na treći otkut se zvona, biti će tocc vengaće tocc se zvona 15 sati, 30 minute i 30 secondi. Na treći otkut se zvona 15 sati, biti će tocc se zvona 15 sati, 30 minute i 30 minute i 30 secondi. Al terzo tocco saranno le 15 e 31 minuti e 0 secondi Al terzo tocco saranno le 15 e 31 minuti e 10 secondi Al terzo tocco saranno le 15 e 31 minuti e 20 secondi Al terzo tocco saranno le 15 e 31 minuti e 30 secondi Al terzo tocco saranno le 15 e 31 minuti e 40 secondi Al terzo tocco saranno le 15 e 31 minuti e 50 secondi Al terzo tocco saranno le 15 e 32 minuti e 0 secondi Al terzo tocco saranno le 15 e 32 minuti e 10 secondi Al terzo tocco saranno le 15 e 32 minuti e 20 secondi Al terzo tocco saranno le 15 e 30 minuti e 30 secondi Al terzo tocco saranno le 15 e 32 minuti e 40 secondi Al terzo tocco saranno le 15 e 30 minuti e 50 secondi Al terzo tocco saranno le 15 e 33 minuti e 0 secondi Al terzo tocco saranno le 15 e 30 minuti e 30 secondi Al terzo tocco saranno le 15 e 30 minuti e 30 secondi Al terzo tocco saranno le 15 e 30 minuti e 0 secondi Al terzo tocco saranno le 15 e 33 minuti e 40 secondi Al terzo tocco saranno le 15 e 33 minuti e 50 secondi Al terzo tocco saranno le 15 e 30 minuti e 40 secondi Al terzo tocco saranno le 15 e 30 minuti e 50 secondi Al terzo tocco saranno le 15, 34 minuti e 20 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 34 minuti e 30 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 34 minuti e 40 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 34 minuti e 50 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 35 minuti e 0 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 35 minuti e 10 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 35 minuti e 30 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 35 minuti e 40 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 35 minuti e 50 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 36 minuti e 40 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 36 minuti e 40 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 36 minuti e 0 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 36 minuti e 0 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 36 minuti e 0 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 30 minuti e 40 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 37 minuti e 0 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 37 minuti e 0 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 37 minuti e 0 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 37 minuti e 0 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 37 minuti e 0 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 37 minuti e 0 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 37 minuti e 0 secondi. secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 38 minuti e 0 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 38 minuti e 20 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 38 minuti e 30 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 38 minuti e 50 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 39 minuti e 0 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 39 minuti e 10 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 39 minuti e 30 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 39 minuti e 40 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 40 minuti e 0 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 40 minuti e 10 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 40 minuti e 20 secondi. Al terzo tocco saranno Al terzo tocco saranno le 15, 40 minuti e 30 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 40 minuti e 40 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 40 minuti e 50 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 41 minuti e 0 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 41 minuti e 10 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 41 minuti e 20 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 41 minuti e 30 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 41 minuti e 40 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 42 minuti e 0 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 42 minuti e 0 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 42 minuti e 20 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 42 minuti e 0 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 42 minuti e 40 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 43 minuti e 10 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 43 minuti e 10 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 43 minuti e 0 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 43 minuti e 30 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 43 minuti e 30 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 44 minuti e 0 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 44 minuti e 0 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 44 minuti e 0 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 44 minuti e 0 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 44 minuti e 0 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 45 minuti e 0 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 45 minuti e 10 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 45 minuti e 0 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 45 minuti e 0 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 45 minuti e 0 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 45 minuti e 0 secondi. secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 45 minuti e 50 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 46 minuti e 10 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 46 minuti e 20 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 46 minuti e 30 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 46 minuti e 40 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 46 minuti e 50 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 47 minuti e 0 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 47 minuti e 10 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 47 minuti e 20 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 47 minuti e 40 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 47 minuti e 50 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 47 minuti e 40 minuti e 20 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 48 minuti e 20 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 48 8 minuti e 30 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 48 minuti e 40 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 49 minuti e 0 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 49 minuti e 10 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 49 minuti e 20 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 49 minuti e 30 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 49 minuti e 40 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 49 minuti e 50 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 50 minuti e 0 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 50 minuti e 10 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 50 minuti e 0 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 50 minuti e 0 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 50 minuti e 0 secondi. Al terzo tocco saranno le 15, 50 minuti e 0 secondi. Al terceiro sinal, serão 15 horas, 51 minutos, 0 segundos Al terceiro sinal, serão 15 horas, 51 minutos e 10 segundos Al terceiro sinal, serão 15 horas, 51 minutos e 20 segundos Al terceiro sinal, serão 15 horas, 51 minutos e 30 segundos Al terceiro sinal, serão 15 horas, 51 minutos e 40 segundos Al terceiro sinal, serão 15 horas, 52 minutos e 0 segundos Al terceiro sinal, serão 15 horas, 52 minutos e 10 segundos Al terceiro sinal, serão 15 horas, 52 minutos e 20 segundos Al terceiro sinal, serão 15 horas, 52 minutos e 0 segundos Al terceiro sinal, serão 15 horas, 52 minutos e 40 segundos Al terceiro sinal, serão 15 horas, 53 minutos e 0 segundos Al terceiro sinal, serão 15 horas, 53 minutos e 0 segundos Al terceiro sinal, serão 15 horas, 53 minutos e 20 segundos Al terceiro sinal, serão 15 horas, 53 minutos e 0 segundos Al terceiro sinal, serão 15 minutos e 0 segundos Al terceiro sinal, serão 15 horas, 54 minutos e 0 segundos Al terceiro sinal, serão 15 horas, 54 minutos e 0 segundos Al terceiro sinal, serão 15 horas, 54 minutos e 0 segundos Al terceiro sinal, serão 15 minutos e 0 segundos Al terceiro sinal, serão 15 horas, 54 minutos e 0 segundos Al terceiro sinal, serão 15 minutos e 0 segundos Al terceiro sinal, serão 15 minutos e 0 segundos Al terceiro sinal, serão 15 horas, 55 minutos e 0 segundos Al terceiro sinal, serão 50 minutos e 0 segundos Al terceiro sinal, serão 15 horas, 0 segundos Al terceiro sinal, serão 15 horas, 56 minutos e 0 segundos Al terceiro sinal, serão 15 minutos e 0 segundos Al terceiro sinal, serão 15 horas, 56 minutos e 0 segundos Al terceiro sinal, serão 50 minutos e 0 segundos Al terceiro sinal, serão 15 horas, 0 segundos Al terceiro sinal, serão 15 horas, 57 minutos e 0 segundos Al terceiro sinal, serão 50 minutos e 0 segundos Al terceiro sinal, serão 15 horas, 57 minutos e 0 segundos Al terceiro sinal, serão 15 horas, 57 minutos e 0 segundos Al terceiro sinal, serão 15 horas, 57 minutos e 0 segundos Al terceiro sinal, serão 15 horas, 57 minutos e 0 segundos al terceiro sinal serão 15 horas 57 minutos e 40 segundos al terceiro sinal serão 15 horas 57 minutos e 50 segundos al terceiro sinal serão 15 horas 58 minutos 0 segundos al terceiro sinal serão 15 horas 58 minutos e 10 segundos ao terceiro sinal serão 15 horas 58 minutos e 20 segundos ao terceiro sinal serão 15 horas 58 minutos e 30 segundos al terceiro sinal serão 15 horas 58 minutos e 40 segundos al terceiro sinal serão 15 horas 58 minutos e 50 segundos al terceiro sinal serão 15 horas 59 minutos e 0 segundos al terceiro sinal serão 15 horas 59 minutos e 10 segundos al terceiro sinal serão 15 horas 59 minutos e 20 segundos al terceiro sinal serão 15 horas 59 minutos e 30 segundos al terceiro sinal serão 15 horas 59 minutos e 40 segundos ao terceiro sinal serão 15 horas 59 minutos e 50 segundos ao terceiro sinal serão 16 horas 0 minutos 0 segundos e 30 segundos ao terceiro sinal serão 16 horas 0 minutos e 10 segundos e 30 segundos ao terceiro sinal serão 16 horas 0 minutos e 30 segundos e 30 segundos ao terceiro sinal serão 16 horas 0 minutos e 30 segundos e 30 segundos e 30 segundos e 30 segundos serão 16 horas 0 minutos e 30 segundos e 30 segundos e 30 segundos ao terceiro sinal serão 16 horas 1 minutos 1 minuto e 20 secondi. 1 minuto e 50 secondi. 1 minuto e 20 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 secondi. Il terzo sinal sono 16 ore 6 minuti e 50 secondi. Il terzo sinal sono 16 ore 7 minuti e 0 secondi. Il terzo sinal sono 16 ore 7 minuti e 10 secondi. Il terzo sinal sono 16 ore 7 minuti e 20 secondi. Il terzo sinal sono 16 ore 7 minuti e 30 secondi. Il terzo sinal sono 16 ore 7 minuti e 40 secondi. Il terzo sinal sono 16 ore 7 minuti e 50 secondi. Il terzo sinal sono 16 ore 8 minuti e 0 secondi. Il terzo sinal sono 16 ore 8 minuti e 10 secondi. Il terzo sinal sono 16 ore 8 minuti e 20 secondi. Il terzo sinal sono 16 ore 8 minuti e 30 secondi. Il terzo sinal sono 16 ore 8 minuti e 40 secondi. Il terzo sinal sono 16 ore 8 minuti e 50 secondi. Il terzo sinal sono 16 ore 9 minuti e 20 secondi. Il terzo sinal sono 16 ore 9 minuti e 20 secondi. Il terzo sinal sono 16 ore 9 minuti e 30 secondi. Il terzo sinal sono 16 ore 9 minuti e 40 secondi. Il terzo sinal sono 16 ore 9 minuti e 50 secondi. Il terzo sinal sono 16 ore 10 minuti e 0 secondi. Il terzo sinal sono 16 ore 10 minuti e 10 secondi. Il terzo sinal sono 16 ore 10 minuti e 20 secondi. Il terzo sinal è 16 ore 10 minuti e 40 secondi. Il terzo sinal è 16 ore 10 minuti e 50 secondi. Il terzo sinal è 16 ore 10 minuti e 50 secondi. Il terzo sinal è 16 ore 10 minuti e 50 secondi. Il terzo sinal è 16 ore 10 minuti e 20 secondi. Il terzo sinal è 16 ore 10 minuti e 40 secondi. Il terzo sinal è 16 ore 10 minuti e 10 minuti e 50 minuti e 60 minuti e 10 minuti. At the third stroke, it will be 16, 12, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 16, 12, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 16, 12, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 16, 12, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 16, 13, precisely. At the third stroke, it will be 16, 13, and 10 seconds. At the third stroke, it will be 16, 13, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 16, 13, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 16, 13, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 16, 13, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 16, 14, and 10 seconds. At the third stroke, it will be 16, 14, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 16, 14, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 16, 14, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 16, 15, precisely. At the third stroke, it will be 16, 15, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 16, 15, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 16, 15, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 16, 15, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 16, 15, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 16, 16, precisely. At the third stroke, it will be 16, 16, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 16, 16, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 16, 16, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 16, 16, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 16, 17, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 16, 17, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 16, 17, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 16, 17, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 16, 17, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 16, 17, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 16, 18, precisely. At the third stroke, it will be 16, 18, and 10 seconds. At the third stroke, it will be 16, 18, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 16, 18, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 16, 18, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 16, 18, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 16, 19, precisely. At the third stroke, it will be 16, 19, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 16, 19, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 16, 19, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 16, 19, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 16, 20, precisely. At the third stroke, it will be 16, 20, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 16, 20, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 16, 20, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 16, 20, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 16, 20, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 16, 21, precisely. At the third stroke, it will be 16, 21, and 10 seconds. At the third stroke, it will be 16, 21, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 16, 21, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 16, 21, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 16, 21, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 16, 22, precisely. At the third stroke, it will be 16, 22, and 10 seconds. At the third stroke, it will be 16, 22, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 16, 22, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 16, 22, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 16, 22, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 16, 23, precisely. At the third stroke, it will be 16, 23, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 16, 23, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 16, 23, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 16, 23, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 16, 24, precisely. At the third stroke, it will be 16, 24, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 16, 24, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 16, 24, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 16, 24, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 16, 24, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 16, 25, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 16, 25, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 16, 25, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 16, 25, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 16, 25, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 16, 25, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 16, 26, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 16, 26, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 16, 26, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 16, 26, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 16, 26, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 16, 26, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 16, 27, precisely. At the third stroke, it will be 16, 27, and 10 seconds. At the third stroke, it will be 16, 27, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 16, 27, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 16, 27, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 16, 27, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 16, 28, precisely. At the third stroke, it will be 16, 28, and 10 seconds. At the third stroke, it will be 16, 28, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 16, 28, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 16, 28, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 16, 29, precisely. At the third stroke, it will be 16, 29, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 16, 29, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 16, 29, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 16, 29, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 16, 29, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 16, 30, precisely. At the third stroke, it will be 16, 30, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 16, 30, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 16, 30, and 50 seconds. Beim dritten stroke, it will be 16, 30, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 16, 31, and 20 seconds. 3. Torn, 16 ura 31 minuto e 20 secundi 3. Torn, 16 ura 31 minuto e 30 secundi 3. turno è 16.31 minuti e 40 secondi 3. turno è 16.31 minuti e 50 secondi 3. turno è 16.32 minuti e 0 secondi 3. turno è 16.32 minuti e 10 secondi 3. turno è 16.32 minuti e 20 secondi 3. turno è 16.32 minuti e 30 secondi 3. turno è 16.32 minuti e 40 secondi 3. turno è 16.32 minuti e 50 secondi 3. turno è 16.33 minuti e 0 secondi 3. turno è 16.33 minuti e 10 secondi 3. turno è 16.33 minuti e 20 secondi 3. turno è 16.33 minuti e 30 secondi 3. turno è 16.33 minuti e 40 secondi 3. turno è 16.34 minuti e 10 secondi 3. turno è 16.34 minuti e 10 secondi 3. turno è 16.34 minuti e 30 secondi 3. turno è 16.35 minuti e 0 secondi 3. turno è 16.35 minuti e 0 secondi 3. turno è 16.35 minuti e 10 secondi 3. turno è 16.35 minuti e 20 secondi 3. turno è 16.35 minuti e 10 secondi 3. turno è 16.35 minuti e 40 secondi 3. turno è 16.35 minuti e 10 secondi 3. turno è 16.36 minuti e 10 secondi 3. turno è 16.36 minuti e 10 secondi 3. turno è 16.35 minuti e 10 secondi 3. turno è 16.36 minuti e 10 secondi 3. turno è 16.36 minuti e 10 secondi 3. turno è 16.37 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 minuti e 10 secondi 3. Torna 16.37 minuto e 50 secondi 3. Torna 16.38 minuto e 0 secondi 3. Torna 16.38 minuto e 10 secondi 3. Torna 16.38 minuto e 20 secondi 3. Torna 16.38 minuto e 30 secondi 3. Torna 16.38 minuto e 40 secondi 3. Torna 16.38 minuto e 50 secondi 3. Torna 16.39 minuto e 0 secondi 3. Torna 16.39 minuto e 10 secondi 3. Torna 16.39 minuto e 20 secondi 3. Torna 16.39 minuto e 30 secondi 3. Torna 16.39 minuto e 40 secondi 3. Torna 16.39 minuto e 50 secondi 3. Torna 16.40 minuto e 0 secondi 3. Torna 16.40 minuto e 10 secondi 3. Torna 16.40 minuto e 20 secondi 3. Torna 16.40 minuto e 20 secondi 3. Torna 16.40 minuto e 30 secondi 3 turno è 16 ore 40 minuto e 40 sec 3 turno è 16 ore 40 minuto e 50 sec 3 turno è 16 ore 41 minuto e 0 sec 3 turno è 16 ore 41 minuto e 10 sec 3 turno è 16 ore 41 minuto e 20 sec 3 turno è 16 ore 41 minuto e 30 sec 3 turno è 16 ore 41 minuto e 40 sec 3 turno è 16 ore 41 minuto e 50 sec 3 turno è 16 ore 42 minuto e 0 sec 3 turno è 16 ore 42 minuto e 10 sec 3 turno è 16 ore 42 minuto e 10 sec 3 turno è 16 ore 42 minuto e 30 sec 3 turno è 16 ore 42 minuto e 0 sec 3 turno è 16 ore 42 minuto e 0 sec 3 turno è 16 ore 43 minuto e 0 sec 3 turno è 16 ore 43 minuto e 10 sec 3 turno è 16 ore 43 minuto e 20 sec 3 turno è 16 ore 43 minuto e 30 sec 4 turno è 15 ore 40 minuto e 0 sec 3 turno è 16 ore 44 minuto e 0 sec 3. Ton è 16.44 minuto e 0 sec. 3. Ton è 16.44 minuto e 10 sec. 3. Ton è 16.44 minuto e 20 sec. 3. Ton è 16.44 minuto e 30 sec. 3. Ton è 16.44 minuto e 40 sec. 3. Ton è 16.44 minuto e 50 sec. 3. Ton è 16.45 minuto e 0 sec. 3. Ton è 16.45 minuto e 10 sec. 3. Ton è 16.45 minuto e 20 sec. 3. Ton è 16.45 minuto e 30 sec. 3. Ton è 16.45 minuto e 40 sec. 4. Ton è 16.45 minuto e 50 sec. Il terzo sinal sono 16 ore 46 minuto e 0 secondi. Il terzo sinal sono 16 ore 46 minuto e 10 secondi. Il terzo sinal sono 16 ore 46 minuto e 20 secondi. Il terzo sinal sono 16 ore 46 minuto e 30 secondi. Al terzo sinal saranno 16 ore, 46 minuti e 40 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore, 46 minuti e 50 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore, 47 minuti e 0 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore, 47 minuti e 10 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore, 47 minuti e 20 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore, 47 minuti e 30 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore, 47 minuti e 40 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore, 47 minuti e 50 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore, 48 minuti e 0 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore, 48 minuti e 0 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore, 48 minuti e 20 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore, 48 minuti e 0 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore, 48 minuti e 0 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore, 49 minuti e 10 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore, 49 minuti e 0 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore, 49 minuti e 0 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore, 49 minuti e 0 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore, 49 minuti e 0 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore, 49 minuti e 0 segundi. al tercero sinal saranno 16 ore 50 minuto e 0 segundi al tercero sinal saranno 16 ore 50 minuto e 10 segundi al tercero sinal saranno 16 ore 50 minuto e 20 segundi al tercero sinal saranno 16 ore 50 minuto e 30 segundi al tercero sinal saranno 16 ore 50 minuto e 40 segundi al tercero sinal saranno 16 ore 50 minuto e 50 segundi al tercero sinal saranno 16 ore 51 minuto e 0 segundi al tercero sinal saranno 16 ore 51 minuto e 10 segundi al tercero sinal saranno 16 ore 51 minuto e 20 segundi al tercero sinal saranno 16 ore 51 minuto e 30 segundi al tercero sinal saranno 16 ore 51 minuto e 40 segundi al tercero sinal saranno 16 ore 52 minuto e 0 segundi al tercero sinal saranno 16 ore 52 minuto e 0 segundi al tercero sinal saranno 16 ore 52 minuto e 0 segundi al tercero sinal saranno 16 ore 52 minuto e 0 segundi al tercero sinal saranno 16 ore 53 minuto e 0 segundi al tercero sinal saranno 16 ore 53 minuto e 0 segundi al tercero sinal saranno 16 ore 53 minuto e 0 segundi al tercero sinal saranno 16 ore 53 minuto e 0 segundi al tercero sinal saranno 16 ore 53 minuto e 0 segundi al tercero sinal saranno 16 ore 53 minuto e 0 segundi al tercero sinal saranno 16 ore 54 minuto e 0 segundi al tercero sinal saranno 16 ore 54 minuto e 0 segundi al tercero sinal saranno 16 ore 54 minuto e 0 segundi al tercero sinal saranno 16 ore 54 minuto e 0 segundi al tercero sinal saranno 16 ore 54 minuto e 0 segundi al tercero sinal saranno 16 ore 54 minuto e 0 segundi al tercero sinal saranno 16 ore 54 minuto e 0 segundi Al terzo sinal saranno 16 ore 54 minuto e 50 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore 55 minuto e 0 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore 55 minuto e 10 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore 55 minuto e 20 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore 55 minuto e 30 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore 55 minuto e 40 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore 55 minuto e 50 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore 56 minuto e 0 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore 56 minuto e 0 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore 56 minuto e 20 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore 56 minuto e 0 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore 56 minuto e 0 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore 57 minuto e 0 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore 57 minuto e 0 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore 57 minuto e 0 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore 57 minuto e 0 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore 57 minuto e 0 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore 58 minuto e 0 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore 58 minuto e 0 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore 58 minuto e 0 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore 58 minuto e 0 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore 58 minuto e 0 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore 58 minuto e 0 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore 58 minuto e 0 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore 58 minuto e 0 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore 58 minuto e 0 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore 58 minuto e 0 segundi. Al terzo sinal saranno 16 ore 58 minuto e 0 segundi. al tercino sinal sono 16 ore 58 minuto e 40 segundi al tercino sinal sono 16 ore 58 minuto e 50 segundi al tercino sinal sono 16 ore 59 minuto e 0 segundi al tercino sinal sono 16 ore 59 minuto e 10 segundi al tercino sinal sono 16 ore 59 minuto e 20 segundi al tercino sinal sono 16 ore 59 minuto e 30 segundi al tercino sinal sono 16 ore 59 minuto e 40 segundi al tercino sinal sono 16 ore 59 minuto e 50 segundi al tercino sinal sono 17 ore 59 minuto e 20 segundi al tercino sinal sono 17 ore 59 minuto e 20 segundi al tercino sinal sono 17 ore 59 minuto e 40 segundi Il terzo tono indicerà le 17 ore, 0 minuto e 30 seg. Il terzo tono indicerà le 17 ore, 1 minuto e 30 seg. Il terzo tono indicerà le 17 ore, 1 minuto e 30 seg. Il terzo tono indicerà le 17 ore, 1 minuto e 40 seg. Il terzo tono indicerà le 17 ore, 1 minuto e 50 seg. Il terzo tono indicerà le 17 ore, 2 minuto e 30 seg. Il terzo tono indicerà le 17 ore, 2 minuto e 30 seg. Il terzo tono indicerà le 17 ore, 2 minuto e 30 seg. Il terzo tono indicerà le 17 ore, 2 minuto e 40 seg. Il terzo tono indicerà le 17 ore, 2 minuto e 50 seg. Il terzo tono indicerà le 17 ore, 3 minuto e 30 seg. Il terzo tono indicerà le 17 ore, 3 minuto e 30 seg. Il terzo tono indicerà le 17 ore, 3 minuto e 30 seg. Il terzo tono indicerà le 17 ore, 3 minuto e 40 seg. Il terzo tono indicerà le 17 ore, 3 minuto e 50 seg. Il terzo tono indicerà le 17 ore, 4 minuto. Il terzo tono indicerà le 17 ore, 3 minuto e 10 seg. Il terzo tono indicerà le 17 ore, 4 minuto e 20 seg. Il terzo tono indicerà le 17 ore, 4 minuto e 40 seg. Il terzo tono indicerà le 17 ore 4 minuti 40 secondi. Il terzo tono indicerà le 17 ore 4 minuti 50 secondi. Il terzo tono indicerà le 17 ore 5 minuti 10 secondi. Il terzo tono indicerà le 17 ore 5 minuti 20 secondi. Il terzo tono indicerà le 17 ore 5 minuti 30 secondi. Il terzo tono indicerà le 17 ore 5 minuti 40 secondi. Il terzo tono indicerà le 17 ore 5 minuti 50 secondi. Il terzo tono indicerà le 17 ore 6 minuti 10 secondi. Il terzo tono indicerà le 17 ore 6 minuti 20 secondi. Il terzo tono indicerà le 17 ore 6 minuti 40 secondi. Il terzo tono indicerà le 17 ore 6 minuti 50 secondi. Il terzo tono indicerà le 17 ore 7 minuti 40 secondi. Il terzo tono indicerà le 17 ore 6 minuti 40 secondi. Il terzo tono indicerà le 17 ore 7 minuti 40 secondi. Il terzo tono indicerà le 17 ore 7 minuti 40 secondi. Il terzo tono indicerà le 17 ore 7 minuti 40 secondi. Il terzo tono indicerà le 17 ore 7 minuti 50 secondi. Il terzo tono indicerà le 17 ore 7 minuti 40 secondi. Il terzo tono indicerà le 17 ore 8 minuti 10 secondi. Il terzo tono indicerà le 17 ore 8 minuti 20 secondi. Il terzo tono indicerà le 17 ore 8 minuti 30 secondi. Il terzo tono indicerà le 17 ore 8 minuti 40 secondi. Il terzo tono indicerà le 17 ore 8 minuti 50 secondi Il terzo tono indicerà le 17 ore 9 minuti Il terzo tono indicerà le 17 ore 9 minuti 10 secondi Il terzo tono indicerà le 17 ore 9 minuti 20 secondi Il terzo tono indicerà le 17 ore 9 minuti 30 secondi Il terzo tono indicerà le 17 ore 9 minuti 40 secondi Il terzo tono indicerà le 17 ore 9 minuti 50 secondi Il terzo tono indicerà le 17 ore 10 minuti Il terzo tono indicerà le 17 ore 10 minuti 10 secondi Il terzo tono indicerà le 17 ore 10 minuti 20 secondi Il terzo tono indicerà le 17 ore 10 minuti 30 secondi Il terzo tono indicerà le 17 ore 10 minuti 40 secondi Il terzo tono indicerà le 17 ore 10 minuti 50 secondi Il terzo tono indicerà le 17 ore 10 minuti Il terzo tono indicerà le 17 ore 10 minuti Il terzo tono indicerà le 17 ore 10 minuti 20 secondi Il terzo tono indicerà le 17 ore 11 minuti 30 secondi Il terzo tono indicerà le 17 ore 10 minuti 40 secondi Il terzo tono indicerà le 17 ore 11 minuti 50 secondi Il terzo tono indicerà le 17 ore 12 minuti Il terzo tono indicerà le 17 ore 10 minuti 20 secondi Il terzo tono indicerà le 17 ore 12 minuti 20 secondi Il terzo tono indicerà le 17 ore 12 minuti 20 secondi Il terzo tono indicerà le 17 ore 12 minuti 20 secondi Il terzo tono indicerà le 17 ore 12 minuti 20 secondi Il terzo tono indicerà le 17 ore 12 minuti 20 secondi Il terzo tono indicerà le 17 ore, 12 minuto, 40 minuto. Il terzo tono indicerà le 17 ore, 12 minuto, 50 minuto. Il terzo tono indicerà le 17 ore, 13 minuto. Il terzo tono indicerà le 17 ore, 13 minuto, 10 minuto. Il terzo tono indicerà le 17 ore, 13 minuto, 20 minuto. Il terzo tono indicerà le 17 ore, 13 minuto, 30 minuto. Il terzo tono indicerà le 17 ore, 13 minuto, 40 minuto. Il terzo tono indicerà le 17 ore, 13 minuto, 50 minuto. Il terzo tono indicerà le 17 ore, 14 minuto, 10 minuto. Il terzo tono indicerà le 17 ore, 14 minuto, 20 minuto. Il terzo tono indicerà le 17 ore, 14 minuto, 40 minuto. Il terzo tono indicerà le 17 ore, 15 minuto. Il terzo tono indicerà le 17 ore, 15 minuto, 20 minuto. Il terzo tono indicerà le 17 ore, 15 minuto, 20 minuto. Il terzo tono indicerà le 17 ore, 15 minuto, 30 minuto. Il terzo tono indicerà le 17 ore, 15 minuto, 40 minuto. Il terzo tono indicerà le 17 ore, 15 minuto, 50 minuto. Il terzo tono indicerà le 17 ore, 16 minuto. Il terzo tono indicerà le 17 ore, 16 minuto, 20 minuto. Il terzo tono indicerà le 17 ore, 16 minuto, 20 minuto. Il terzo tono indicerà le 17 ore, 16 minuto, 20 minuto. Il terzo tono indicerà le 17 ore, 16 minuto, 20 minuto. Il terzo tono indicerà le 17 ore 16 minuti 40 secondi Il terzo tono indicerà le 17 ore 16 minuti 50 secondi Il terzo tono indicerà le 17 ore 17 minuti Il terzo tono indicerà le 17 ore 17 minuti 10 secondi Il terzo tono indicerà le 17 ore 17 minuti 20 secondi Il terzo tono indicerà le 17 ore 17 minuti 30 secondi Il terzo tono indicerà le 17 ore 17 minuti 40 secondi Il terzo tono indicerà le 17 ore 17 minuti 50 secondi Il terzo tono indicerà le 17 ore 18 minuti Il terzo tono indicerà le 17 ore 18 minuti 10 secondi Il terzo tono indicerà le 17 ore 18 minuti 20 secondi Il terzo tono indicerà le 17 ore 18 minuti 30 secondi Il terzo tono indicerà le 17 ore 18 minuti 40 secondi Il terzo tono indicerà le 17 ore 19 minuti Il terzo tono indicerà le 17 ore 19 minuti Il terzo tono indicerà le 17 ore 19 minuti 20 secondi Il terzo tono indicerà le 17 ore 19 minuti Il terzo tono indicerà le 17 ore 19 minuti 30 secondi Il terzo tono indicerà le 17 ore 19 minuti 30 secondi Il terzo tono indicerà le 17 ore 19 minuti 30 secondi Il terzo tono indicerà le 17 ore 20 minuti Il terzo tono indicerà le 17 ore 20 minuti 30 secondi Il terzo tono indica le 17 ore 20 minuto 20 segundi. Il terzo tono indica le 17 ore 20 minuto 50 segundi. Il terzo tono indica le 17 ore 21 minuto 10 segundi. Il terzo tono indica le 17 ore 21 minuto 10 segundi. Il terzo tono indica le 17 ore 21 minuto 20 segundi. Il terzo tono indica le 17 ore 21 minuto 30 segundi. Il terzo tono indica le 17 ore 21 minuto 40 segundi. Il terzo tono indica le 17 ore 21 minuto 50 segundi. Il terzo tono indica le 17 ore 21 minuto 20 segundi. Il terzo tono indica le 17 ore 21 minuto 20 segundi. Il terzo tono indica le 17 ore 21 minuto 30 segundi. Il terzo tono indica le 17 ore 21 minuto 40 segundi. Il terzo tono indica le 17 ore 22 minuto 50 segundi. Il terzo tono indica le 17 ore 21 minuto 30 segundi. Il terzo tono indica le 17 ore 21 minuto 30 segundi. Il terzo tono indica le 17 ore 21 minuto 30 segundi. Il terzo tono indica le 17 ore 21 minuto 30 segundi. Il terzo tono indica le 17 ore 21 minuto 30 segundi. Il terzo tono indica le 17 ore 21 minuto 30 segundi. Il terzo tono indica le 17 ore 22 minuto 30 segundi. Il terzo tono indica le 17 ore 21 minuto 30 segundi. At the third stroke, it will be 17, 24, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 17, 24, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 17, 24, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 17, 24, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 17, 25, precisely. At the third stroke, it will be 17, 25, and 10 seconds. At the third stroke, it will be 17, 25, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 17, 25, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 17, 25, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 17, 25, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 17, 26, and 10 seconds. At the third stroke, it will be 17, 26, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 17, 26, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 17, 26, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 17, 27, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 17, 27, precisely. At the third stroke, it will be 17, 27, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 17, 27, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 17, 27, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 17, 27, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 17, 28, precisely. At the third stroke, it will be 17, 28, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 17, 28, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 17, 28, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 17, 28, and 40 seconds. On the third stroke, it will be 17, 29, precisely. On the third stroke it will be 17, 29 and 10 seconds. On the third stroke it will be 17, 29 and 20 seconds. On the third stroke it will be 17, 29 and 30 seconds. On the third stroke it will be 17, 29 and 40 seconds. On the third stroke it will be 17, 29 and 50 seconds. On the third stroke it will be 17, 30, precisely. On the third stroke it will be 17, 30 and 10 seconds. On the third stroke it will be 17, 30 and 20 seconds. On the third stroke it will be 17, 30 and 40 seconds. On the third stroke it will be 17, 30 and 50 seconds. On the third stroke it will be 17, 30 and 50 seconds. On the third stroke it will be 17, 31, precisely. On the third stroke it will be 17, 31 and 20 seconds. On the third stroke it will be 17, 31 and 20 seconds. On the third stroke it will be 17, 31 and 40 seconds. On the third stroke it will be 17, 32, precisely. On the third stroke it will be 17, 32 and 10 seconds. On the third stroke it will be 17, 32 and 20 seconds. On the third stroke it will be 17, 32 and 40 seconds. On the third stroke it will be 17, 32 and 50 seconds. On the third stroke it will be 17, 30 seconds. On the third stroke it will be 17, 33 and 10 seconds. On the third stroke it will be 17, 30 seconds. On the third stroke it will be 17, 33 and 40 seconds. On the third stroke it will be 17, 30 seconds. On the third stroke it will be 17, 33 and 50 seconds. On the third stroke it will be 17, 30 seconds. On the third stroke it will be 17, 34 and 20 seconds. On the third stroke it will be 17, 34 and 40 seconds. On the third stroke it will be 17, 34 and 50 seconds. On the third stroke it will be 17, 30 seconds. On the third stroke it will be 17, 35, precisely. On the third stroke it will be 17, 35 seconds. precisely. On the third stroke it will be 17, 35 and 20 seconds. On the third stroke it will be 17, 35 and 20 seconds. On the third stroke it will be 17, 35 and 20 seconds. On the third stroke it will be 17, 35 and 20 seconds. On the third stroke it will be 17, 35 and 50 seconds. On la terza struzione è 17, 36 e 10 secondi. On la terza struzione è 17, 36 e 20 secondi. On la terza struzione è 17, 36 e 30 secondi. On la terza struzione è 17, 36 e 40 secondi. On la terza struzione è 17, 36 e 50 secondi. On la terza struzione è 17, 37 e 10 secondi. On la terza struzione è 17, 37 e 20 secondi. On la terza struzione è 17, 37 e 40 secondi. On la terza struzione è 17, 37 e 40 secondi. On la terza struzione è 17, 37 e 50 secondi. On la terza struzione è 17, 38 e 40 secondi. On la terza struzione è 17, 38 e 40 secondi. On la terza struzione è 17, 38 e 40 secondi. On la terza struzione è 17, 38 e 50 secondi. On la terza struzione è 17, 38 e 50 secondi. On la terza struzione è 17, 39 e 40 secondi. On la terza struzione è 17, 39 e 40 secondi. On la terza struzione è 17, 39 e 40 secondi. On la terza struzione è 17, 39 e 40 secondi. On la terza struzione è 17, 39 e 40 secondi. On la terza struzione è 17, 40 secondi. On la terza struzione è 17, 40 e 40 secondi. On la terza struzione è 17, 40 e 40 secondi. On la terza struzione è 17, 40 e 40 secondi. On la terza struzione è 17, 40 e 40 secondi. On la terza struzione è 17, 40 e 50 secondi. On la terza struzione è 17, 41 e 40 secondi. On la terza struzione è 17, 41 e 10 secondi. On la terza struzione è 17, 41 e 40 secondi. On la terza struzione è 17, 41 e 40 secondi. On la terza struzione è 17, 41 e 40 secondi. On la terza struzione è 17, 42 e 40 secondi. On la terza struzione è 17, 42 e 40 secondi. On la terza struzione è 17, 42 e 10 secondi. On la terza struzione è 17, 42 e 20 secondi. On la terza struzione è 17, 42 e 40 secondi. On la terza struzione è 17, 42 e 40 secondi. On la terza struzione è 17, 42 e 50 secondi. On la terza struzione è 17, 43 e 10 secondi. On la terza struzione è 17, 43 e 40 secondi. On la terza struzione è 17, 43 e 40 secondi. On la terza struzione è 17, 43 e 40 secondi. On la terza struzione è 17, 44 e 0 secondi. On la terza struzione è 17, 44 e 10 secondi. On la terza struzione è 17, 44 e 40 secondi. On la terza struzione è 17, 44 e 40 secondi. On la terza struzione è 17, 44 e 40 secondi. On la terza struzione è 17, 45 e 0 secondi. On la terza struzione è 17, 45 e 0 secondi. On la terza struzione è 17, 45 e 10 secondi. On la terza struzione è 17, 45 e 0 secondi. On la terza struzione è 17, 45 e 0 secondi. On la terza struzione è 17, 45 e 0 secondi. On la terza struzione è 17, 45 e 0 secondi. On la terza struzione è 17, 46 e 0 secondi. 13 ton è 17 uhr 46 minuten e 10 sec 13 ton è 17 uhr 46 minuten e 20 sec beim dritten ton è 17 uhr 46 minuten e 30 sec beim dritten ton è 17 uhr 46 minuten e 40 sec beim dritten ton è 17 uhr 46 minuten e 50 sec beim dritten ton è 17 uhr 47 minuten e 0 sec beim dritten ton è 17 uhr 47 minuten e 10 sec beim dritten ton è 17 uhr 47 minuten e 10 sec beim dritten ton è 17 uhr 47 minuten e 30 sec beim dritten ton è 17 uhr 47 minuten e 10 sec beim dritten ton è 17 uhr 48 minuten e 10 sec beim dritten ton è 17 uhr 48 minuten e 10 sec beim dritten ton è 17 uhr 48 minuten e 10 sec beim dritten ton è 17 uhr 48 minuten e 30 sec beim dritten ton è 17 uhr 49 minuten e 10 sec beim dritten ton è 17 uhr 49 minuten e 10 sec beim dritten ton è 17 uhr 49 minuten e 10 sec beim dritten ton è 17 uhr 49 minuten e 30 sec beim dritten ton è 17 uhr 49 minuten e 10 sec beim dritten ton è 17 uhr 50 minuten e 10 sec beim dritten ton è 17 uhr 50 minuten e 10 sec beim dritten ton è 17 uhr 50 minuten e 10 sec beim dritten ton è 17 uhr 50 minuten e 10 sec beim dritten ton è 17 uhr 50 minuten e 10 sec beim dritten ton è 17 uhr 50 minuten e 10 sec beim dritten ton è 17 uhr 50 minuten e 10 sec beim dritten ton è 17 uhr 51 minuten e 10 sec beim dritten ton è 17 uhr 51 minuten e 10 sec 3. Tornare 17.51.20. 3. Tornare 17.51.30. 3. Tornare 17.51.30. Tornare 17.51.40. Tornare 17.51.50. Tornare 17.51.50. Tornare 17.52.50. Tornare 17.52.50. Tornare 17.52.50. Tornare 17.52.50. Tornare 17.52.50. Tornare 17.52.50. Sì 3. Il trattamento è 17.00, 52.00, 50.00. Il trattamento è 17.00, 53.00, 0.00. Il trattamento è 17.00, 53.00, 10.00. Il trattamento è 17.00, 53.00, 20.00. Il trattamento è 17.00, 53.00, 30.00. Il trattamento è 17.00, 53.00, 40.00. Il trattamento è 17.00, 53.00, 50.00. Il trattamento è 17.00, 54.00, 0.00. Il trattamento è 17.00, 54.00, 10.00. Il trattamento è 17.00, 54.00, 20.00. Il trattamento è 17.00, 54.00, 30.00. Il trattamento è 17.00, 54.00, 40.00. Detattamento è 17.00, 54.00, 50.00. Il trattamento è 17.00, 55.00. e 0 secondi 3 ton 17 uhr 55 minuten 10 secondi 3 ton 17 uhr 55 minuten 20 secondi 3 ton 17 uhr 55 minuten und 30 sekunden beim dritten ton ist es 17 uhr 55 minuten und 40 sekunden beim dritten ton ist es 17 uhr 55 minuten und 50 sekunden beim dritten ton ist es 17 uhr 56 minuten und 0 sekunden beim dritten ton ist es 17 uhr 56 minuten und 10 sekunden beim dritten ton ist es 17 uhr 56 minuten und 50 minuten und 20 sekunden beim dritten ton ist es 17 uhr 56 minuten und 30 sekunden beim dritten ton ist es 17 uhr 56 minuten und 40 sekunden beim dritten ton ist es 17 uhr 57 minuten und 50 sekunden beim dritten ton ist es 17 uhr 57 minuten und 0 sekunden beim dritten ton ist es 17 uhr 57 minuten und 20 sekunden beim dritten ton ist es 17 uhr 57 minuten und 20 sekunden beim dritten ton ist es 17 uhr 57 minuten und 50 sekunden beim dritten ton ist es 17 uhr 57 minuten und 50 sekunden beim dritten ton ist es 17 uhr 58 minuten und 20 sekunden beim dritten ton ist es 17 uhr 58 minuten und 20 sekunden beim dritten ton ist es 17 uhr 58 minuten und 40 sekunden 3. Torni è 17.58.50.50.00. 3. Torni è 17.59.00.50.00. 3. Torni è 17.59.50.00. 3. Torni è 17.59.00.20.00. 3. Torni è 17.59.00.30.00. 3. Torni è 17.59.00.40.00. 3. Torni è 17.59.00.50.00. 3. Torni è 18.00.00. 3. Torni è 18.00.00.10.00. 3. Torni è 18.00.00.30.00. 3. Torni è 18.00.00.40.00. 3. Torni è 18.00.00.00.50.00. 3. Torni è 18.00.00.る. e 0 secondi 3 ton 18 ore 1 minuto 10 secondi 3 ton 18 ore 1 minuto 20 secondi 3 ton 18 ore 1 minuto 30 secondi 3 ton 18 ore 1 minuto 40 secondi 3 ton 18 ore 1 minuto 50 secondi 3 ton 2 minuto 2 minuto 0 secondi 3 ton 18 ore 2 minuto 20 secondi 20 secondi 3 ton 18 ore 2 minuto 30 secondi 3 minuto 2 minuto 3 minuto 1 minuto 3 minuto 2 minuto 0 minute 0 minute 3. ton è 18 ore 3 minuten e 10 sec 3. ton è 18 ore 3 minuten e 10 sec 3. ton è 18 ore 3 minuten e 30 sec 3. ton è 18 ore 3 minuten e 40 sec 3. ton è 18 ore 3 minuten e 50 sec 3. ton è 18 ore 4 minuten e 0 sec 3. ton è 18 ore 4 minuten e 10 sec 3. ton è 18 ore 4 minuten e 10 sec 3. ton è 18 ore 4 minuten e 30 sec 3. ton è 18 ore 5 minuten e 0 sec 3. ton è 18 ore 5 minuten e 0 sec 3. ton è 18 ore 5 minuten e 0 sec 3. ton è 18 ore 5 minuten e 10 sec 3. ton è 18 ore 5 minuten e 20 sec 3. ton è 18 ore 5 minuten e 0 sec 3. ton è 18 ore 5 minuten e 40 sec 3 Torni sono 18 ore 5 minuti e 50 secondi 3 Torni sono 18 ore 6 minuti e 0 secondi 3 Torni sono 18 ore 6 minuti e 10 secondi 3 Torni sono 18 ore 6 minuti e 20 secondi 3 Torni sono 18 ore 6 minuti e 30 secondi 3 Torni sono 18 ore 6 minuti e 40 secondi 3 Torni sono 18 ore 6 minuti e 50 secondi 3 Torni sono 18 ore 7 minuti e 0 secondi 3 Torni sono 18 ore 7 minuti e 10 secondi 3 Torni sono 18 ore 7 minuti e 20 secondi 3 Torni sono 18 ore 7 minuti e 30 secondi 3 Torni sono 18 ore 7 minuti e 40 secondi 3 Torni sono 18 ore 7 minuti e 50 secondi 3 Torni sono 18 ore 8 minuti e 10 secondi 3 Torni sono 18 ore 8 minuti e 10 secondi 3 Torni sono 18 ore 8 minuti e 10 secondi 3 Torni sono 18 ore 8 minuti e 40 secondi 3 Torni sono 18 ore 9 minuti e 10 secondi 3 Torni sono 18 ore 9 minuti e 10 secondi 3 Torni sono 18 ore 9 minuti e 10 secondi 3 Torni sono 18 ore 9 minuti e 10 secondi 3 Torni sono 18 ore 9 minuti e 0 secondi 3 Torni sono 18 ore 9 minuti e 0 secondi 3 Torni sono 18 ore 9 minuti e 0 secondi 3 Torni sono 18 ore 10 minuti e 10 secondi 3 Torni sono 18 ore 10 minuti e 20 secondi 3 Torni sono 18 ore 10 minuti e 50 secondi 3 Torni sono 18 ore 10 minuti e 50 secondi 3 Torni sono 18 ore 10 minuti e 50 secondi 3 Torni sono 18 ore 10 minuti e 50 secondi 3 Torni sono 18 ore 10 minuti e 50 secondi 3 Torni sono 18 ore 10 minuti e 50 secondi Per il terzo tono è 18 ore 11 minuti e 0 secondi. Per il terzo tono è 18 ore 11 minuti e 10 secondi. Per il terzo tono è 18 ore 11 minuti e 20 secondi. Per il terzo tono è 18 ore 11 minuti e 30 secondi. Per il terzo tono è 18 ore 11 minuti e 40 secondi. Per il terzo tono è 18 ore 11 minuti e 50 secondi. Per il terzo tono è 18 ore 12 minuti e 0 secondi. Per il terzo tono è 18 ore 12 minuti e 10 secondi. Per il terzo tono è 18 ore 12 minuti e 20 secondi. Per il terzo tono è 18 ore 12 minuti e 30 secondi. Per il terzo tono è 18 ore 12 minuti e 40 secondi. Per il terzo tono è 18 ore 12 minuti e 50 secondi. Per il terzo tono è 18 ore 13 minuti e 0 secondi. Per il terzo tono è 18 ore 13 minuti e 30 secondi. Per il terzo tono è 18 ore 13 minuti e 40 secondi. Per il terzo tono è 18 ore 13 minuti e 50 secondi. Per il terzo tono è 18 ore 14 minuti e 20 secondi. Per il terzo tono è 18 ore 14 minuti e 20 secondi. Per il terzo tono è 18 ore 14 minuti e 50 secondi. Per il terzo tono è 18 ore 14 minuti e 50 secondi. Per il terzo tono è 18 ore 15 minuti e 10 secondi. Per il terzo tono è 18 ore 15 minuti e 40 secondi. Per il terzo tono è 18 ore 15 minuti e 50 secondi. Per il terzo tono è 18 ore 16 minuti e 10 secondi. Per il terzo tono è 18 ore 16 minuti e 30 secondi. Per il terzo tono è 18 ore 16 minuti e 40 secondi. Per il terzo tono è 18 ore 16 minuti e 50 secondi. 3. Torni sono 18.17.0.0. 3. Torni sono 18.17.10. 3. Torni sono 18.17.20. 3. Torni sono 18.17.30. 3. Torni sono 18.17.40. 3. Torni sono 18.17.50. 3. Torni sono 18.18.0. 3. Torni sono 18.18.10. 3. Torni sono 18.18.20. 3. Torni sono 18.18.30. 3. Torni sono 18.18.40. 3. Torni sono 18.18.50. 3. Torni sono 18.19.00. 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 5. Torni sono 18.00. 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 6. Torni sono 18.00. 5. Torni sono 18.00. 5. Torni sono 18.00. 5 minuti e 20 secondi 3. sinyalde saat 6'ya 21 geçe 0 saniyede olacak 3. sinyalde saat 6'ya 21 geçe 10 saniyede olacak 3. sinyalde saat 6'ya 21 geçe 20 saniyede olacak 3. sinyalde saat 6'ya 21 geçe 30 saniyede olacak 3. sinyalde saat 6'ya 21 geçe 40 saniyede olacak 3. sinyalde saat 6'ya 21 geçe 50 saniyede olacak 3. sinyalde saat 6'ya 22 geçe 20 saniyede olacak 3. sinyalde saat 6'ya 22 geçe 30 saniyede olacak 3. sinyalde saat 6'ya 22 geçe 30 saniyede olacak 3. sinyalde saat 6'ya 22 geçe 50 saniyede olacak 3. sinyalde saat 6'ya 22 geçe 50 saniyede olacak 3. sinyalde saat 6'ya 23 geçe 0 saniyede olacak 3. sinyalde saat 6'ya 23 geçe 30 saniyede olacak 3. sinyalde saat 6'ya 23 geçe 30 saniyede olacak 3. sinyalde saat 6'ya 23 geçe 40 saniyede olacak 3. sinyalde saat 6'ya 23 geçe 50 saniyede olacak 3. sinyalde saat 6'ya 24 geçe 50 saniyede olacak 3. sinyalde saat 6'ya 24 geçe 50 saniyede olacak 3. sinyalde saat 6'ya 24 geçe 50 saniyede olacak 3. sinyalde saat 6'ya 24 geçe 50 saniyede olacak 3. sinyalde saat 6'ya 24 geçe 50 saniyede olacak 3. sinyalde saat 6'yı 24 geçe 30 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 24 geçe 40 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 24 geçe 50 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 25 geçe 0 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 25 geçe 10 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 25 geçe 20 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 25 geçe 30 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 25 geçe 40 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 25 geçe 50 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 26 dakika geçe 0 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 25 geçe 30 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 26 dakika geçe 30 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 25 geçe 40 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 26 dakika geçe 50 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 27 dakika geçe 30 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 27 dakika geçe 20 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 27 dakika geçe 30 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 27 dakika geçe 40 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 27 dakika geçe 50 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 28 dakika geçe 0 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 28 dakika geçe 10 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 28 dakika geçe 30 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 28 dakika geçe 30 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 28 dakika geçe 40 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 28 dakika geçe 50 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 29 dakika geçe 0 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 29 dakika geçe 10 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 29 dakika geçe 30 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 29 dakika geçe 30 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 29 dk geçe 40 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 29 dk geçe 50 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 30 dk geçe 0 saniyede olacak 3. sinyalde saat 6'yı 30 dk geçe 10 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 30 dk geçe 20 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 30 dk geçe 30 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 30 dk geçe 40 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 30 dk geçe 50 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 31 dk geçe 0 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 30 dk geçe 30 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 31 dk geçe 30 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 31 dk geçe 30 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 30 dk geçe 40 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 31 dk geçe 50 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 31 dk geçe 50 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 32 dk geçe 20 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 32 dk geçe 20 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 32 dk geçe 30 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 32 dk geçe 50 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 33 dk geçe 0 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 33 dk geçe 20 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 33 dk geçe 20 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'ya 33 dk geçe 40 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'ya 33 dk geçe 50 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'ya 34 dk geçe 0 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'ya 34 dk geçe 10 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'ya 34 dk geçe 20 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'ya 34 dk geçe 30 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'ya 34 dk geçe 40 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'ya 35 dk geçe 0 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'ya 35 dk geçe 0 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'ya 35 dk geçe 10 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'ya 35 dk geçe 30 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'ya 35 dk geçe 30 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'ya 35 dk geçe 40 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'ya 35 dk geçe 50 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'ya 36 dk geçe 10 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'ya 36 dk geçe 10 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'ya 36 dk geçe 20 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'ya 36 dk geçe 40 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'ya 36 dk geçe 40 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'ya 36 dk geçe 50 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'ya 37 dk geçe 10 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'ya 37 dk geçe 20 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'ya 37 dk geçe 20 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'yı 37 dk geçe, 30 saniye olacak. 3. sinyalde saat 6'yı 37 dk geçe, 40 saniye olacak. 3. sinyalde saat 6'yı 37 dk geçe, 50 saniye olacak. 3. sinyalde saat 6'yı 38 dk geçe, 0 saniye olacak. 3. sinyalde saat 6'yı 38 dk geçe, 10 saniye olacak. 3. sinyalde saat 6'yı 38 dk geçe, 20 saniye olacak. 3. sinyalde saat 6'yı 38 dk geçe, 30 saniye olacak. 3. sinyalde saat 6'yı 38 dk geçe, 40 saniye olacak. 3. sinyalde saat 6'yı 38 dk geçe, 50 saniyede olacak. 3. sinyalde saat 6'yı 39 dk geçe, 0 saniyede olacak. 3. sinyalde saat 6'ya 39 dakika geçe 10 saniyede olacak 3. sinyalde saat 6'ya 39 dakika geçe 20 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'ya 39 dakika geçe 30 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'ya 39 dakika geçe 40 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'ya 39 dakika geçe 50 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'ya 40 dakika geçe 0 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'ya 40 dakika geçe 10 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'ya 40 dakika geçe 20 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'ya 40 dakika geçe 30 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'ya 40 saniye olacak 3. sinyalde saat 6'ya 40 saniye olacak 4. sinyalde saat 6'ya 40 saniye olacak 5. 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 sinyalde saat 6'ya 41 saniye olacak 5. sinyalde saat 6'ya 40 saniye olacak 10 secondi 13 ton 18 uhr 42 minuto 20 secondi 13 ton 18 uhr 42 minuto 30 secondi 13 ton 18 uhr 42 minuto und 40 sekunden beim dritten ton ist es 18 uhr 42 minuto und 50 sekunden beim dritten ton ist es 18 uhr 43 minuto und 0 sekunden beim dritten ton ist es 18 uhr 43 minuto und 10 sekunden beim dritten ton ist es 18 uhr 43 minuto und 20 sekunden und 50 sekunden beim dritten ton ist es 18 uhr 43 minuto und 30 sekunden beim dritten ton ist es 18 uhr 43 minuto und 40 sekunden und 10 sekunden und 10 sekunden und 10 sekunden und 10 sekunden beim dritten ton ist es 18 uhr 44 minuto und 10 sekunden und 40 sekunden und 30 sekunden è 18 ore 44 minuto e 30 secondi 3 ton è 18 ore 44 minuto e 40 secondi 3 ton è 18 ore 44 minuto e 50 secondi 3 ton è 18 ore 45 minuto e 0 secondi 3 ton è 18 ore 45 minuto e 10 secondi 3 ton è 18 ore 45 minuto e 20 secondi 3 ton è 18 ore 45 minuto e 30 secondi 3 ton è 18 ore 45 minuto e 40 secondi 3 ton è 18 ore 45 minuto e 50 secondi 3 ton è 18 ore 46 minuto e 10 secondi 3 ton è 18 ore 46 minuto e 10 secondi 3 ton è 18 ore 46 minuto e 30 secondi 3 ton è 18 ore 46 minuto e 40 secondi 3 ton è 18 ore 47 minuto e 10 secondi 3 ton è 18 ore 47 minuto e 10 secondi 3 ton è 18 ore 47 minuto e 40 secondi 3 ton è 18 ore 47 minuto e 40 secondi 3 ton è 18 ore 48 minuto e 10 secondi 3 ton è 18 ore 48 minuto e 10 secondi 3 ton è 18 ore 48 minuto e 10 secondi 3 ton è 18 ore 48 minuto e 10 secondi 3 ton è 18 ore 48 minuto e 10 secondi 3 ton è 18 ore 48 minuto e 10 secondi 3. Ton è 18.00, 48.00, 50.00. 3. Ton è 18.00, 49.00, 0.00. 3. Ton è 18.00, 49.00, 10.00. 3. Ton è 18.00, 49.00, 20.00. 3. Ton è 18.00, 49.00, 30.00. 3. Ton è 18.00, 49.00, 40.00. 3. Ton è 18.00, 49.00, 50.00. 3. Ton è 18.00, 50.00, 0.00. 3. Ton è 18.00, 50.00, 10.00. 3. Ton è 18.00, 50.00, 20.00. 3. Ton è 18.00, 50.00, 30.00. 3. Ton è 18.00, 50.00, 40.00. 3. Ton è 18.00, 50.00, 50.00, 50.00. 3. Ton è 18.00, 50.00, 50.00, 10.00. 3. Ton è 18.00, 50.00, 30.00. 3. Ton è 18.00, 50.00, 50.00, 50.00. 3. Ton è 18.00, 50.00, 50.00, 10.00. 3. Ton è 18.00, 50.00, 20.00. 3. Ton è 18.00, 52.00, 30.00. 3. Ton è 18.00, 50.00, 50.00, 50.00. 3. Ton è 18.00, 50.00, 50.00, 20.00. 3. Ton è 18.00, 53.00, 30.00. 3. Ton è 18.00, 53.00, 40.00. 3. Ton è 18.00, 50.00, 50.00, 50.00. 3. Ton è 18.00, 54.00, 0.00, 0.00. 3. Ton è 18.00, 54.00, 20.00. 3. Ton è 18.00, 54.00, 30.00. 3. Ton è 18.00, 54.00, 30.00. 3. Ton è 18.00, 54.00, 50.00, 50.00. 3. Ton è 18.00, 55.00, 0.00, 0.00. 3. Ton è 18.00, 55.00, 10.00. 3. Ton è 18.00, 55.00, 20.00. 3. Ton è 18.00, 15.00, 30.00. . 3. Ton è 18.00, 55.00, 40.00. beim dritten ton ist es 18 uhr 55 minuten und 50 sekunden beim dritten ton ist es 18 uhr 56 minuten und 0 sekunden beim dritten ton ist es 18 uhr 56 minuten und 10 sekunden beim dritten ton ist es 18 uhr 56 minuten und 20 sekunden 3 Torni sono 18.56 minuto e 30 secondi 3 Torni sono 18.56 minuto e 40 secondi 3 Torni sono 18.56 minuto e 50 secondi 3 Torni sono 18.57 minuto e 0 secondi 3 Torni sono 18.57 minuto e 10 secondi 3 Torni sono 18.57 minuto e 20 secondi 3 Torni sono 18.57 minuto e 30 secondi 3 Torni sono 18.57 minuto e 40 secondi 3 Torni sono 18.57 minuto e 50 secondi 3 Torni sono 18.58 minuto e 10 secondi 3 Torni sono 18.58 minuto e 30 secondi 3 Torni sono 18.58 minuto e 40 secondi 3 Torni sono 18.58 minuto e 50 secondi 3 Torni sono 18.59 minuto e 10 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 secondi 3 Torni sono 19.00 minuto e 10 secondi 3 Torni sono 19.00 minuto e 20 secondi 3 Torni sono 19.00 minuto e 10 secondi 3 Torni sono 19.00 minuto e 40 secondi 3 Torni sono 19.00 minuto e 50 secondi 3 Torni sono 19.00 minuto e 10 secondi 3 Torni sono 19.00 minuto e 10 secondi 3 Torni sono 19.00 minuto e 10 secondi 3 Torni sono 19.00 minuto e 30 secondi 3 Torni sono 19.00 minuto e 40 secondi 3 Torni sono 19.00 minuto e 10 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 secondi On the third stroke, it will be 19, 2, and 50 seconds. On the third stroke, it will be 19, 3, precisely. On the third stroke, it will be 19, 3, and 10 seconds. On the third stroke, it will be 19, 3, and 20 seconds. On the third stroke, it will be 19, 3, and 30 seconds. On the third stroke, it will be 19, 3, and 40 seconds. On the third stroke, it will be 19, 3, and 50 seconds. On the third stroke, it will be 19, 4, and 10 seconds. On the third stroke, it will be 19, 4, and 10 seconds. On the third stroke, it will be 19, 4, and 40 seconds. On the third stroke, it will be 19, 4, and 50 seconds. On the third stroke, it will be 19, 5, precisely. On the third stroke, it will be 19, 5, and 30 seconds. On the third stroke, it will be 19, 5, and 30 seconds. On the third stroke, it will be 19, 5, and 40 seconds. On the third stroke, it will be 19, 5, and 40 seconds. On the third stroke, it will be 19, 5, and 50 seconds. On the third stroke, it will be 19, 6, precisely. On the third stroke, it will be 19, 6, and 10 seconds. On the third stroke, it will be 19, 6, and 30 seconds. On the third stroke, it will be 19, 6, and 30 seconds. On the third stroke, it will be 19, 6, and 50 seconds. On the third stroke, it will be 19, 6, and 50 seconds. On the third stroke, it will be 19, 7, precisely. On the third stroke, it will be 19, 7, and 10 seconds. On the third stroke, it will be 19, 7, and 20 seconds. On the third stroke, it will be 19, 7, and 30 seconds. On the third stroke, it will be 19, 7, and 40 seconds. On the third stroke, it will be 19, 7, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 19, 8, and 10 seconds. On the third stroke, it will be 19, 8, and 30 seconds. On the third stroke, it will be 19, 8, and 40 seconds. On the third stroke, it will be 19, 8, and 50 seconds. On the third stroke, it will be 19, 9, precisely. On the third stroke, it will be 19, 9, and 30 seconds. On the third stroke, it will be 19, 9, and 30 seconds. On the third stroke, it will be 19, 9, and 40 seconds. On the third stroke, it will be 19, 9, and 50 seconds. On the third stroke, it will be 19, 10 minutes, precisely. On the third stroke, it will be 19, 10, and 20 seconds. On the third stroke, it will be 19, 10, and 20 seconds. On the third stroke, it will be 19, 10, and 30 seconds. On the third stroke, it will be 19, 10, and 40 seconds. On the third stroke, it will be 19, 10, and 50 seconds. On the third stroke, it will be 19, 11, and 20 seconds. On the third stroke, it will be 19, 11, and 20 seconds. On the third stroke, it will be 19, 10, and 50 seconds. On the third stroke, it will be 19, 11, and 50 seconds. On the third stroke, it will be 19, 12, and 0 seconds. On the third stroke, it will be 19, 12, and 10 seconds. 3. Torn 19.12 min 20. 3. Torn 19.12 min 30. 3. Torn 19.12 min 30. Torn 19.12 min 30. Torn 19.13 min 30. Torn Torn 19.13 min 30. Torn 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 3. Ton è 19.15 minuti e 40 secondi. 3. Ton è 19.15 minuti e 50 secondi. 3. Ton è 19.16 minuti e 0 secondi. 3. Ton è 19.16 minuti e 10 secondi. 3. Ton è 19.16 minuti e 20 secondi. 3. Ton è 19.16 minuti e 30 secondi. 3. Ton è 19.16 minuti e 40 secondi. 3. Ton è 19.16 minuti e 50 secondi. 3. Ton è 19.17 minuti e 10 secondi. 3. Ton è 19.17 minuti e 20 secondi. 3. Ton è 19.17 minuti e 30 secondi. 3. Ton è 19.17 minuti e 40 secondi. 3. Ton è 19.17 minuti e 50 secondi. 3. Ton è 19.17 minuti e 20 secondi. 3. Ton è 19.18 minuti e 20 secondi. 3. Ton è 19.17 minuti e 50 secondi. 3. Ton è 19.17 minuti e 10 secondi. 3. Ton è 19.17 minuti e 30 secondi. 3. Ton è 19.17 minuti e 50 secondi. 3. Ton è 19.17 minuti e 50 secondi. 3. Ton è 19.17 minuti e 10 secondi. 3. Ton è 19.17 minuti不 residesì e 30 secondi. 3. Ton è 19.18 minuti e 30 secondi. 4. Ton è 19.17 minuti e 50 secondi. 4. Ton è 19.17 minuti e 30 secondi. 5. Ton è 19.20 minuti e 30 secondi. 3. Torn 19.20.40 3. Torn 19.20.50 3. Torn 19.21.00 und 0 Sekunden 3. Torn 19.21.10 3. Torn 19.21.20 3. Torn 19.21.20 und 30 Sekunden 3. Torn 19.21.40 3. Torn 19.21.50 3. Torn 19.22.00 3. Torn 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 5. Torn 3. Torn 5. Torn 4. Torn 5. Torn 6. Torn 5. Torn 6. Torn Per il terzo tono è 19 ore 24 minuti e 30 secondi. Per il terzo tono è 19 ore 24 minuti e 40 secondi. Per il terzo tono è 19 ore 24 minuti e 50 secondi. Per il terzo tono è 19 ore 25 minuti e 0 secondi. Per il terzo tono è 19 ore 25 minuti e 10 secondi. Per il terzo tono è 19 ore 25 minuti e 20 secondi. Per il terzo tono è 19 ore 25 minuti e 30 secondi. Per il terzo tono è 19 ore 25 minuti e 40 secondi. Per il terzo tono è 19 ore 25 minuti e 50 secondi. Per il terzo tono è 19 ore 26 minuti e 10 secondi. Per il terzo tono è 19 ore 26 minuti e 20 secondi. Per il terzo tono è 19 ore 26 minuti e 30 secondi. Per il terzo tono è 19 ore 27 minuti e 0 secondi. Per il terzo tono è 19 ore 27 minuti e 0 secondi. Per il terzo tono è 19 ore 27 minuti e 30 secondi. Per il terzo tono è 19 ore 27 minuti e 40 secondi. Per il terzo tono è 19 ore 27 minuti e 50 secondi. Per il terzo tono è 19 ore 28 minuti e 10 secondi. Per il terzo tono è 19 ore 28 minuti e 20 secondi. Per il terzo tono è 19 ore 28 minuti e 40 secondi. Per il terzo tono è 19 ore 28 minuti e 40 secondi. Per il terzo tono è 19 ore 29 minuti e 10 secondi. Per il terzo tono è 19 ore 29 minuti e 30 secondi. Per il terzo tono è 19 ore 29 minuti e 40 secondi. Per il terzo tono è 19 ore 30 minuti e 0 secondi. Per il terzo tono è 19 ore 30 minuti e 10 secondi. Per il terzo tono è 19 ore 30 minuti e 20 secondi. Per il terzo tono è 19 ore 30 minuti e 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 40 minuti. Per il terzo tono è 19 ore 29 minuti e 30 minuti e 30 minuti e 30 minuti Pertigio 3, la giuna è 7, 31, 30 giorni. Pertigio 3, la giuna è 7, 31, 40, 30. Pertigio 3, la giuna è 7, 31, 50. Bazzicolo 3, la sera è 7, 32. 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 Bazzicolo 3, la sera è 7, 33. 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 Bazzicolo 3, la sera è 7, 34. 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 Bazzicolo 3, la sera è 7, 35. 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 Bazzicolo 3, la sera è 7, 36. 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. e a tutti. a tutti. e 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 a tutti. l'anima. e a tutti. e a tutti. A presto, a presto il 21 minuto 21-41-40-2 21-21-50-2 21-22-20-0-2 21-21-20-20-2 21-21-20-40-2 21-21-20-0-2 22-21-20-2 22-21-20-2 23-21-20-2 22-21-20-2 22-21-20-2 22-21-20-2 23-21-20-2 23-21-20-2 23-21-20-2 24-21-20-2 24-21-20-2 24-21-20-2 24-21-20-1 24-21-30-2 24-22-2 24-23-20-2 2. presenta la giornata del 3er la giornata del 21.25.40 presenta la giornata del 21.25.50 presenta la giornata del 21.26.20 2 2 3 3 4 5 6 6 6 7 8 8 8 9 10 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 40 20 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 21 20 20 20 20 20 20 20 21 20 20 secondi 20 secondi 20 secondi 20 secondi 21 secondi 21 secondi 30 secondi 20 secondi 21 secondi 21 secondi 20 secondi 20 secondi 20 secondi 20 secondi 21 29 20 secondi 20 secondi 20 secondi 20 secondi 21 29 30 secondi 20 secondi 20 secondi 50 secondi 20 secondi 21 21 30 secondi 30 secondi 20 secondi 20 secondi 21 30 secondi 20 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 21 31 30 20 20 21 31 20 20 20 20 21 31 20 20 20 20 20 21 31 32 22 22 22 20 30 20 22 20 20 21 20 20 20 20 Per il trattamento è 21 ore 32 minuti e 30 secondi. Per il trattamento è 21 ore 32 minuti e 40 secondi. Per il trattamento è 21 ore 32 minuti e 50 secondi. Per il trattamento è 21 ore 33 minuti e 10 secondi. Per il trattamento è 21 ore 33 minuti e 20 secondi. Per il trattamento è 21 ore 33 minuti e 30 secondi. Per il trattamento è 21 ore 33 minuti e 40 secondi. Per il trattamento è 21 ore 33 minuti e 50 secondi. Per il trattamento è 21 ore 34 minuti e 10 secondi. Per il trattamento è 21 ore 34 minuti e 30 secondi. Per il trattamento è 21 ore 34 minuti e 50 secondi. Per il trattamento è 21 ore 34 minuti e 50 secondi. Per il trattamento è 21 ore 35 minuti e 10 secondi. Per il trattamento è 21 ore 35 minuti e 30 secondi. Per il trattamento è 21 ore 35 minuti e 30 secondi. Per il trattamento è 21 ore 35 minuti e 50 secondi. Per il trattamento è 21 ore 35 minuti e 50 secondi. Per il trattamento è 21 ore 36 minuti e 10 secondi. Per il trattamento è 21 ore 36 minuti e 40 secondi. Per il trattamento è 21 ore 36 minuti e 40 secondi. Per il trattamento è 21 ore 36 minuti e 50 secondi. Per il trattamento è 21 ore 37 minuti e 10 secondi. Per il trattamento è 21 ore 37 minuti e 10 secondi. Per il trattamento è 21 ore 37 minuti e 10 secondi. Per il trattamento è 21 ore 37 minuti e 10 secondi. Per il trattamento è 21 ore 37 minuti e 10 secondi. Per il trattamento è 21 ore 37 minuti e 10 secondi. Per il trattamento è 21 ore 38 minuti e 20 secondi. Per il trattamento è 21 ore 38 minuti e 20 secondi. Per il trattamento è 21 ore 38 minuti e 10 secondi. Per il trattamento è 21 ore 38 minuti e 10 secondi. Per il trattamento è 21 ore 38 minuti e 10 secondi. Per il trattamento è 21 ore 39 minuti e 10 secondi. Per il trattamento è 21 ore 39 minuti e 10 secondi. 3. Ton di 21 ore 39 minuto e 20 sec 3. Ton di 21 ore 39 minuto e 30 sec 3. Ton di 21 ore 39 minuto e 50 sec 3. Ton di 21 ore 40 minuto e 10 sec 3. Ton di 21 ore 40 minuto e 10 sec 3. Ton di 21 ore 40 minuto e 30 sec 3. Ton di 21 ore 40 minuto e 40 sec 3. Ton di 21 ore 40 minuto e 50 sec 3. Ton di 21 ore 41 minuto e 10 sec 3. Ton di 21 ore 40 minuto e 10 sec 3. Ton di 21 ore 41 minuto e 20 sec 3. Ton di 21 ore 40 minuto e 10 sec 3. Ton di 21 ore 41 minuto e 40 sec 3. Ton di 21 ore 41 minuto e 50 sec 3. Ton di 21 ore 40 minuto e 10 sec 3. Ton di 21 ore 40 minuto e 10 sec 3. Ton di 21 ore 40 minuto e 20 sec 3. Ton di 21 ore 41 minuto e 40 sec 3. Ton di 21 ore 40 minuto e 40 sec 3. Tone di 21.00, 43.00, 0.00, 10.00. Beim 3. Tone di 21.00, 43.00, 20.00. Beim 3. Tone di 21.00, 43.00, 30.00. Beim 3. Tone di 21.00, 43.00, 40.00, 40.00. Beim 3. Tone di 21.00, 43.00, 50.00. Beim 3. Tone di 21.00, 44.00, 0.00, 0.00. Beim 3. Tone di 21.00, 44.00, 10.00. Beim 3. Tone di 21.00, 44.00, 20.00. Beim 3. Tone di 21.00, 44.00, 30.00. Beim 3. Tone di 21.00, 44.00, 40.00, 40.00. Beim 3. Tone di 21.00, 44.00, 50.00. beim 3. Tone di 21.00, 45.00, 50.00, 50.00, 50.00, 15.00. Beim 3. Tone di 21.00, 45.00, 15.00, 50.00, 40.00, 50.00. minuti e 20 secondi. Al terzo suono sono le 21, 45 minuti e 30 secondi. Al terzo suono sono le 21, 45 minuti e 40 secondi. Al terzo segnale sono le 21, 45 minuti e 50 secondi. Al terzo segnale sono le 21, e 46 minuti. Al terzo segnale sono le 21, 46 minuti e 20 secondi. Al terzo segnale sono le 21, 46 minuti e 30 secondi. Al terzo segnale sono le 21, 46 minuti e 40 secondi. Al terzo segnale sono le 21, 46 minuti e 50 secondi. Al terzo segnale sono le 21, 47 minuti e 20 secondi. Al terzo segnale sono le 21, 47 minuti e 20 secondi. Al terzo segnale sono le 21, 47 minuti e 50 secondi. Al terzo segnale sono le 21, 47 minuti e 50 e 50 secondi. Al terzo segnale sono le 21, 48 minuti e 50 secondi. Al terzo segnale sono le 21, 48 minuti e 20 secondi. Al terzo segnale sono le 21, 48 minuti e 50 secondi. Al terzo segnale sono le 21, 48 minuti e 40 secondi. Al terzo segnale sono le 21, 48 minuti e 50 secondi. Al terzo segnale sono le 21 e 49 minuti. Al terzo segnale sono le 21 e 49 minuti. Al terzo segnale sono le 21 e 50 minuti. Al terzo segnale sono le 21 e 50 minuti. Al terzo segnale sono le 21 e 50 minuti. Al terzo segnale sono le 21 e 50 minuti. Al terzo segnale sono le 21 e 50 minuti. Al terzo segnale sono le 21 e 50 minuti. Al terzo segnale sono le 21 e 50 minuti. Al terzo segnale sono le 21 e 50 minuti. Al terzo segnale sono le 21 e 50 minuti. Al terzo segnale sono le 21 e 50 minuti. Al terzo segnale sono le 21 e 50 minuti. Al terzo segnale sono le 21 e 50 minuti. Al terzo segnale sono le 21 e 50 minuti. Al terzo segnale sono le 21 e 50 minuti. Se sono le 22 e 50 minuti. Al terzo segnale sono le 21 e 50 minuti. Al terzo segnale sono le 21 e 50 minuti. Al terzo segnale sono le 21,53 minuti. Al terzo segnale sono le 21,53 minuti e 30 secondi. Al terzo segnale sono le 21,53 minuti e 40 secondi. Al terzo segnale sono le 21,54 minuti. Al terzo segnale sono le 21,54 minuti e 10 secondi. Al terzo segnale sono le 21,54 minuti e 20 secondi. Al terzo segnale sono le 21,54 minuti e 40 secondi. Al terzo segnale sono le 21,54 minuti e 20 secondi. Al terzo segnale sono le 21,54 minuti e 50 secondi. Al terzo segnale sono le 21,55 minuti e 10 secondi. Al terzo segnale sono le 21,55 minuti e 20 secondi. Al terzo segnale sono le 21,55 minuti e 20 secondi. Al terzo segnale sono le 21,55 minuti e 30 secondi. Al terzo segnale sono le 21,55 minuti e 40 secondi. Al terzo segnale sono le 21,55 minuti e 50 secondi. Al terzo segnale sono le 21,55 minuti e 20 secondi. Al terzo segnale sono le 21,56 minuti e 20 secondi. Al terzo segnale sono le 21,55 minuti e 40 secondi. Al terzo segnale sono le 21,56 minuti e 50 secondi. Tocchè il tempo è 21.56.50 Tocchè il tempo è 21.57.50 Tocchè il tempo è 21.57.50 Tocchè il tempo è 21.57.20 Tocchè il tempo è 21.57.30 Tocchè il tempo è 21.57.40 Tocchè il tempo è 21.57.50 Tocchè il tempo è 21.58.00 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 Tocchè il tempo è 21.59.00 Tocchè il tempo è 21.59.20 Tocchè il tempo è 21.59.20 Tocchè il tempo è 21.59.20 Tocchè il tempo è 21.59.40 Tocchè il tempo è 21.00 Tocchè il tempo è 21.59.50 Tocchè il tempo è 22.00.20 Tocchè il tempo è 22.00.30 Tocchè il tempo è 22.00.40 0,7 minuti e 40 secondi. Tocchè il tempo 22.00, 0 minuti e 50 secondi. Tocchè il tempo 22.00, 1 minuti e 50 secondi. Tocchè il tempo 22.00, 1 minuti e 10 secondi. Tocchè il tempo 22.00, 1 minuti e 20 secondi. Tocchè il tempo 22.00, 1 minuti e 20 secondi. 30 secund. Tocchное время 22 часа 1 minuta 40 secund. Tocchное время 22 часа 1 minuta 50 secund. Tocchное время 22 часа 2 minuta 0 secund. Tocchное время 22 часа 2 minuta 10 secund. Быстро время летит. Tocchное время 22 часа 2 minuta 20 secund. Tocchное время 22 часа 2 minuta 30 secund. Tocchное время 22 часа 2 minuta 40 secund. Tocchное время 22 часа 2 minuta 10 secund. Tocchное время 22 часа 3 minuta 0 secund. Tocchное время 22 часа 3 minuta 30 secund. Tocchное время 22 часа 3 minuta 30 secund. Tocchное время 22 часа 3 minuta 30 secund. Tocchное время 22 часа 3 minuta 40 secund. Tocchное время 22 часа 4 minuta 10 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 secund. Tocchное время 22 часа 5 minuta 10 secund. Tocchное время 22 часа 5 minuta 10 secund. Tocchное время 22 часа 5 минут ровно Tocchное время 22 часа 5 минут 10 секунд Tocchное время 22 часа 5 минут 20 секунд Tocchное время 22 часа 5 минут 30 секунд Tocchное время 22 часа 5 минут 30 секунд Al terzo rintocco saranno le 22, 5 e 50 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22, 06 e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22, 06 e 10 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22, 06 e 20 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22, 06 e 30 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22, 06 e 40 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22, 06 e 50 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22, 07 e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22, 07 e 20 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22, 07 e 20 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22, 07 e 40 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22, 07 e 40 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22, 08 e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22, 08 e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22, 08 e 20 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22, 08 e 20 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22, 08 e 40 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22, 08 e 50 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22, 08 e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22, 08 e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22, 09 e 20 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22, 09 e 20 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22, 09 e 30 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22, 08 e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22, 09 e 50 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22, 10 e 0 secondi. secondi. Al terzo rintocco saranno le 22 e 10 e 10 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22 e 10 e 20 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22 e 10 e 30 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22 e 10 e 40 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22 e 10 e 50 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22 e 11 e 10 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22 e 11 e 10 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22 e 11 e 20 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22 e 10 e 30 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22 e 11 e 40 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22 e 10 e 40 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22 e 12 e 0 secondi. al terzo rintocco saranno le 22 e 20 e 20 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22 e 12 e 30 secondi. al terzo rintocco saranno le 22 e 10 e 50 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22 e 13 e 0 secondi. al terzo rintocco saranno le 22 e 30 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22 e 30 secondi. al terzo rintocco saranno le 22 e 50 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22 e 14 e 0 secondi. al terzo rintocco saranno le 22 e 30 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22 e 14 e 30 secondi. al terzo rintocco saranno le 22 e 40 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22 e 14 e 40 secondi. al terzo rintocco saranno le 22 e 40 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22 e 15 e 10 secondi. al terzo rintocco saranno le 22 e 40 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22 e 15 e 40 secondi. al terzo rintocco saranno le 22 e 50 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22 e 16 e 0 secondi. al terzo rintocco saranno le 22 e 20 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22 e 16 e 20 secondi. al terzo rintocco saranno le 22 e 50 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22 e 16 e 50 secondi. al terzo rintocco saranno le 22 e 10 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22 e 17 e 0 secondi. al terzo rintocco saranno le 22 e 30 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22 e 17 e 20 secondi. al terzo rintocco saranno le 22 e 17 e 30 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22 e 17 e 30 secondi. al terzo rintocco saranno le 22 e 17 e 30 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22 e 17 e 30 secondi. Al terzo rintocco saranno le 22, 17 e 40 secondi Al terzo rintocco saranno le 22, 17 e 50 secondi Al terzo rintocco saranno le 22 e 18 e 0 secondi Al terzo rintocco saranno le 22, 18 e 10 secondi Al terzo rintocco saranno le 22, 18 e 20 secondi Al terzo rintocco saranno le 22, 18 e 30 secondi Al terzo rintocco saranno le 22, 18 e 40 secondi Al terzo rintocco saranno le 22, 18 e 50 secondi Al terzo rintocco saranno le 22, 19 e 0 secondi Al terzo rintocco saranno le 22, 19 e 10 secondi Al terzo rintocco saranno le 22, 19 e 20 secondi Al terzo rintocco saranno le 22, 19 e 40 secondi Al terzo rintocco saranno le 22, 19 e 50 secondi Al terzo rintocco saranno le 22, 20 e 20 secondi Al terzo rintocco saranno le 22, 20 e 10 secondi Al terzo rintocco saranno le 22, 20 e 40 secondi Al terzo rintocco saranno le 22, 20 e 40 secondi Al terzo rintocco saranno le 22, 20 e 40 secondi Al terzo rintocco saranno le 22, 20 e 40 secondi Al terzo rintocco saranno le 22, 21 e 40 secondi Al terzo rintocco saranno le 22, 21 e 40 secondi Al terzo rintocco saranno le 22, 21 e 40 secondi Al terzo rintocco saranno le 22, 21 e 40 secondi Al terzo rintocco saranno le 22, 21 e 40 secondi Al terzo rintocco saranno le 22, 21 e 40 secondi 21 e 20 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 21 e 30 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 21 e 40 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 21 e 50 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 22 e 40 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 22 e 40 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 22 e 20 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 22 e 30 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 22 e 40 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 22 e 50 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 23 e 40 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 23 e 40 sec. i 10 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 23 e 40 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 23 e 40 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 23 e 40 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 23 e 50 sec. za 3 uderzeniem będzie 22, 24 e 40 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 24 e 40 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 24 e 50 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 24 e 50 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 24 e 40 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 25 e 40 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 25 e 40 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 25 e 40 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 25 e 40 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 25 e 40 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 25 e 40 sec. 50 sec. Per il terzo uderimento 22, 26 sec. Per il terzo uderimento 22, 26 sec. Per il terzo uderimento 22, 26 sec. Per il terzo 11 sec. Per il terzo uderimento 22, per il terzo 20 sec. Per il terzo e파� Per il terzo uderimento 22, per il terzo edo Per il terzo Per il terzo per il terzo 22, 26, 50 secondi. 3, 22, 27 secondi. 3, 22, 27 secondi. 3, 22, 27, 20 secondi. 3, 22, 27, 30 secondi. 3, 22, 27, 40 secondi. 4, 22, 20 secondi. 3, 22, 27, 50 secondi. 3, 22, 28 secondi. 3, 22, 28 secondi. 4, 22, 28, 20 secondi. 4, 22, 28, 20 secondi. 3, 22, 28, 30 secondi. alla prossima 10 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 29 i 20 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 29 i 30 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 29 i 40 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 29 i 50 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 30. Za 3 uderzeniem będzie 22, 30 i 30 i 30 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 30 i 20 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 30 i 30 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 30, 30 i 40 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 30 i 50 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 31. będzie 21, 31 i 20 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 31 i 20 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 31 i 20 sec. za 3 uderzeniem będzie 21, 31 i 20 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 31 i 50 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 31 i 50 sec. za 3 uderzeniem będzie 22, 32 i 20 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 32 i 20 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 32 i 50 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 32 i 50 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 33 i 10 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 33 i 40 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 33 i 40 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 34 i 10 sec. Za 3 uderzeniem będzie 22, 34 i 10 sec. Per il terzo uderimento è il 22, 34 e 20 secondi. Per il terzo uderimento è il 22, 34 e 30 secondi. Per il terzo uderimento è il 22, 34 e 40 secondi. Per il terzo uderimento è il 22, 34 e 50 secondi. Per il terzo uderimento è il 22, 35 secondi. Per il terzo uderimento è il 22, 35 e 20 secondi. Per il terzo uderimento è il 22, 35 e 20 secondi. Per il terzo uderimento è il 22, 35 e 30 secondi. Per il terzo uderimento è il 22, 35 e 50 secondi. Per il terzo uderimento è il 22, 36 e 10 secondi. Per il terzo uderimento è il 22, 36 e 30 secondi. Per il terzo uderimento è il 22, 36 e 40 secondi. Per il terzo uderimento è il terzo uderimento è il 22, 36 e 50 secondi. Per il terzo uderimento è il terzo uderimento è il 22, 36 e 50 secondi. Per il terzo uderimento è il terzo uderimento è il 22, 37 e 10 secondi. Per il terzo uderimento è il terzo uderimento è il 22, 37 e 30 secondi. Per il terzo uderimento è il terzo uderimento è il terzo uderimento è il 20, 37 e 40 secondi. Per il terzo uderimento è il 22, 37 e 50 secondi. At the third stroke, it will be 22, 38, precisely. At the third stroke, it will be 22, 38, and 10 seconds. At the third stroke, it will be 22, 38, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 22, 38, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 22, 38, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 22, 38, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 22, 39, precisely. At the third stroke, it will be 22, 39, and 10 seconds. At the third stroke, it will be 22, 39, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 22, 39, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 22, 39, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 22, 40, precisely. At the third stroke, it will be 22, 40, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 22, 40, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 22, 40, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 22, 41, precisely. At the third stroke, it will be 22, 41, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 22, 41, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 21, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 22, 41, and 50 seconds. At the third stroke, at the third stroke, at the third stroke, it will be 22, 42, and 10 seconds. At the third stroke, at the third stroke, it will be 22, 42, and 20 seconds. At the third stroke, at the third stroke, it will be 22, 42, and 30 seconds. At the third stroke, at the third stroke, it will be 22, 42, and 40 seconds. At the third stroke, at the third stroke, at the third stroke, it will be 22, 42, and 50 seconds. At the third stroke, at the third stroke, at the third stroke, it will be 22, 43, and 10 seconds. At the third stroke, at the third stroke, at the third stroke, it will be 22, 43, and 30 seconds. At the third stroke, at the third stroke, at the third stroke, it will be 22, 43, and 50 seconds. At the third stroke, at the third stroke, at the third stroke, it will be 22, 44, and 10 seconds. At the third stroke, at the third stroke, at the third stroke, it will be 22, 44, and 30 seconds. At the third stroke, at the third stroke, at the third stroke, it will be 22, 44, and 50 seconds. At the third stroke, at the third stroke, at the third stroke, at the third stroke, it will be 22, 45, and 10 seconds. At the third stroke, at the third stroke, at the third stroke, it will be 22, 45, and 30 seconds. At the third stroke, at the third stroke, at the third stroke, it will be 22, 45, and 50 seconds. At the third stroke, at the third stroke, at the third stroke, it will be 22, 46, and 20 seconds. At the third stroke, at the third stroke, at the third stroke, it will be 22, 46, and 30 seconds. At the third stroke, at the third stroke, at the third stroke, it will be 22, 46, and 50 seconds. At the third stroke, at the third stroke, at the third stroke, it will be 22, 47, and 10 seconds. At the third stroke, at the third stroke, at the third stroke, it will be 22, 47, and 40 seconds. At the third stroke, at the third stroke, at the third stroke, it will be 22, 47, and 50 seconds. At the third stroke, at the third stroke, at the third stroke, it will be 22, 48, and 10 seconds. At the third stroke, it will be 22, 48, and 20 seconds. At the third stroke, at the third stroke, at the third stroke, it will be 22, 48, and 40 seconds. At the third stroke, at the third stroke, at the third stroke, it will be 22, 49, precisely. At the third stroke, at the third stroke, at the third stroke, it will be 22, 49, and 20 seconds. At the third stroke, at the third stroke, at the third stroke, it will be 22, 49, and 40 seconds. At the third stroke, at the third stroke, at the third stroke, it will be 22, 50, precisely. At the third stroke, at the third stroke, at the third stroke, it will be 22, 50, and 20 seconds. At the third stroke, at the third stroke, at the third stroke, it will be 22, 50, and 40 seconds. 3 Torni è 22 ore 50 minuto e 40 sec. 3 Torni è 22 ore 50 minuto e 50 sec. 3 Torni è 22 ore 51 minuto e 10 sec. 3 Torni è 22 ore 51 minuto e 20 sec. 3 Torni è 22 ore 51 minuto e 30 sec. 3 Torni è 22 ore 51 minuto e 40 sec. 3 Torni è 22 ore 51 minuto e 50 sec. 3 Torni è 22 ore 52 minuto e 10 sec. 3 Torni è 22 ore 52 minuto e 10 sec. 3 Torni è 22 ore 52 minuto e 30 sec. 3 Torni è 22 ore 52 minuto e 40 sec. 3 Torni è 22 ore 52 minuto e 50 sec. 3 Torni è 22 ore 53 minuto e 0 sec. 3 Torni è 22 ore 53 minuto e 10 sec. 3 Torni è 22 ore 53 minuto e 20 sec. 3 Torni è 22 ore 53 minuto e 50 sec. 3 Torni è 22 ore 53 minuto e 50 sec. 3 Torni è 22 ore 54 minuto e 10 sec. 3 Torni è 22 ore 54 minuto e 10 sec. 3 Torni è 22 ore 54 minuto e 10 sec. 3 Torni è 22 ore 54 minuto e 30 sec. 3 Torni è 22 ore 55 minuto e 10 sec. 3 Torni è 22 ore 55 minuto e 10 sec. 3 Torni è 22 ore 55 minuto e 10 sec. 3 Torni è 22 ore 55 minuto e 10 sec. 3 Torni è 22 ore 55 minuto e 10 sec. 3 Torni è 22 ore 55 minuto e 10 sec. 3 Torni è 22 ore 56 minuto e 10 sec. 3 Torni è 22 ore 56 minuto e 10 sec. 3 Torni è 22 ore 56 minuto e 10 sec. beim dritten ton ist es 22 uhr 56 minuten und 30 sekunden beim dritten ton ist es 22 uhr 56 minuten und 40 sekunden beim dritten ton ist es 22 uhr 56 minuten und 50 sekunden beim dritten ton ist es 22 uhr 57 minuten und 0 sekunden beim dritten ton ist es 22 uhr 57 minuten und 10 sekunden beim dritten ton ist es 22 uhr 57 minuten und 20 sekunden beim dritten ton ist es 22 uhr 57 minuten und 30 sekunden beim dritten ton ist es 22 uhr 57 minuten und 40 sekunden beim dritten ton ist es 22 uhr 57 minuten und 50 sekunden beim dritten ton ist es 22 uhr 58 minuten und 0 sekunden beim dritten ton ist es 22 uhr 58 minuten und 10 sekunden beim dritten ton ist es 22 uhr 58 minuten und 20 sekunden beim dritten ton ist es 22 uhr 58 minuten und 30 sekunden beim dritten ton ist es 22 uhr 58 minuten und 40 sekunden beim dritten ton ist es 22 uhr 59 minuten und 0 sekunden beim dritten ton ist es 22 uhr 59 minuten und 20 sekunden beim dritten ton ist es 22 uhr 59 minuten und 40 sekunden beim dritten ton ist es 22 uhr 59 minuten und 50 sekunden beim dritten ton ist es 23 uhr 59 minuten und 20 sekunden beim dritten ton ist es 23 uhr 59 minuten und 30 sekunden beim dritten ton ist es 23 uhr 59 minuten und 50 sekunden beim dritten ton ist es 23 uhr 59 minuten und 20 sekunden beim dritten ton ist es 23 uhr 59 minuten und 20 sekunden beim dritten ton ist es 23 uhr 59 minuten und 50 sekunden beim dritten ton ist es 23 uhr 59 minuten und 50 sekunden beim dritten ton ist es 23 uhr 59 minuten und 20 sekunden beim dritten ton ist es 23 uhr 59 minuten und 20 sekunden beim dritten ton ist es 23 uhr 59 minuten und 20 sekunden beim dritten ton ist es 23 uhr 59 minuten und 20 sekunden 3. Torni a 23 ore 2 minuto e 30 sec. 3. Torni a 23 ore 2 minuto e 40 sec. 3. Torni a 23 ore 2 minuto e 50 sec. 3. Torni a 23 ore 3 minuto e 0 sec. 3. Torni a 23 ore 3 minuto e 10 sec. 3. Torni a 23 ore 3 minuto e 20 sec. 3. Torni a 23 ore 3 minuto e 30 sec. 3. Torni a 23 ore 3 minuto e 40 sec. 3. Torni a 23 ore 3 minuto e 40 sec. 3. Torni a 23 ore 4 minuto e 0 sec. 3. Torni a 23 ore 4 minuto e 10 sec. 3. Torni a 23 ore 4 minuto e 20 sec. 3. Torni a 23 ore 4 minuto e 40 sec. 3. Torni a 23 ore 4 minuto e 40 sec. 3. Torni a 23 ore 5 minuto e 10 sec. 3. Torni a 23 ore 5 minuto e 10 sec. 3. Torni a 23 ore 5 minuto e 20 sec. 3. Torni a 23 ore 5 minuto e 30 sec. 3. Torni a 23 ore 5 minuto e 40 sec. 3. Torni a 23 ore 5 minuto e 40 sec. 3. Torni a 23 ore 5 minuto e 40 sec. 3. Torni a 23 ore 5 minuto e 40 sec. Al terzo rintocco saranno le 11, 6 minuti e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11, 6 minuti e 10 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11, 6 minuti e 20 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11, 6 minuti e 30 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11, 6 minuti e 40 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11, 6 minuti e 50 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11, 7 minuti e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11, 7 minuti e 10 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11, 7 minuti e 20 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11, 7 minuti e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11, 7 minuti e 40 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11, 8 minuti e 40 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11, 8 minuti e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11, 8 minuti e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11, 8 minuti e 20 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11, 8 minuti e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11, 9 minuti e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11, 9 minuti e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11, 9 minuti e 10 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11, 9 minuti e 20 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11, 9 minuti e 30 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11, 9 minuti e 40 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11, 9 minuti e 50 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11, 10 minuti e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11, 10 minuti e 20 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11, 10 minuti e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11, 10 minuti e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11, 10 minuti e 20 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11, 10 minuti e 50 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11, 10 minuti e 20 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11, 11 minuti e 20 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11, 10 minuti e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11, 11 minuti e 40 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11, 12 minuti e 20 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11, 12 minuti e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11, 12 minuti e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11, 12 minuti e 20 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11, 12 minuti e 30 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11-12 minuti e 40 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11-12 minuti e 50 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11-13 minuti e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11-13 minuti e 10 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11-13 minuti e 20 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11-13 minuti e 30 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11-13 minuti e 40 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11-14 minuti e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11-14 minuti e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11-14 minuti e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11-14 minuti e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11-14 minuti e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11-14 minuti e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11-15 minuti e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11-15 minuti e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11-15 minuti e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11-15 minuti e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11-15 minuti e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11-16 minuti e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11-16 minuti e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11-16 minuti e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11-16 minuti e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11-16 minuti e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11-16 minuti e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11-17 minuti e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11-17 minuti e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11-17 minuti e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11-17 minuti e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11-17 minuti e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11-17 minuti e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11-18 minuti e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11-18 minuti e 10 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11-18 minuti e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11-18 minuti e 0 secondi. Al terzo rintocco saranno le 11.18.40 Al terzo rintocco saranno le 11.18.50 Al terzo rintocco saranno le 11.19.0 Al terzo rintocco saranno le 11.19.10 Al terzo rintocco saranno le 11.19.20 Al terzo rintocco saranno le 11.19.30 Al terzo rintocco saranno le 11.19.40 Al terzo rintocco saranno le 11.19.20 Al terzo rintocco saranno le 11.20.00 Al terzo rintocco saranno le 20.20.20 Al terzo rintocco saranno le 11.20.20.20.20 Al terzo rintocco saranno le 11.20.20.20.20 Al terzo rintocco saranno le 11.20.20.20.20 Al terzo rintocco saranno le 11.20.20.20 Al terzo rintocco saranno le 11.20.20.20.20 At the third stroke, it will be 23, 21, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 23, 21, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 23, 21, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 23, 22, precisely. At the third stroke, it will be 23, 22, and 10 seconds. At the third stroke, it will be 23, 22, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 22, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 23, 22, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 23, 22, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 23, 23, and 10 seconds. At the third stroke, it will be 23, 23, and 10 seconds. At the third stroke, it will be 23, 23, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 23, 23, and 10 seconds. At the third stroke, it will be 23, 23, and 10 seconds. At the third stroke, it will be 23, 24, and 10 seconds. At the third stroke, it will be 23, 24, and 10 seconds. At the third stroke, it will be 23, 24, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 23, 24, and 10 seconds. At the third stroke, it will be 23, 24, and 10 seconds. At the third stroke, it will be 23, 25, and 10 seconds. At the third stroke, it will be 23, 25, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 25, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 25, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 26, precisely. At the third stroke, it will be 23, 26, and 10 seconds. At the third stroke, it will be 23, 26, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 23, 26, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 23, 26, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 23, 26, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 23, 27, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 27, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 27, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 23, 27, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 23, 27, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 23, 27, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 23, 28, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 23, 28, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 23, 28, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 23, 28, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 23, 29, precisely. At the third stroke, it will be 23, 29, and 10 seconds. At the third stroke, it will be 23, 29, and 10 seconds. At the third stroke, it will be 23, 29, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 23, 29, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 23, 30, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 23, 30, and 10 seconds. At the third stroke, it will be 23, 30, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 23, 30, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 23, 30, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 23, 30, and 50 seconds. Each memory chases. Each memory chases. At the third stroke, it will be 23, 31, precisely. Reaching after water. At the third stroke, it will be 23, 31, and 10 seconds. This reality that leads. At the third stroke, it will be 23, 31, and 20 seconds. burning earth's sun. At the third stroke, it will be 23, 31, and 30 seconds. Quiet in remembering. At the third stroke, it will be 23, 31, and 40 seconds. Each memory chases. At the third stroke, it will be 23, 31, and 50 seconds. Reaching into water. At the third stroke, it will be 23, 32, precisely. Reality that leads. At the third stroke, it will be 23, 32, and 10 seconds. Burning Earth's sun. At the third stroke, it will be 23, 32, and 20 seconds. Hands sense beauty. At the third stroke, it will be 23, 32, and 30 seconds. Seating times seeking. At the third stroke, it will be 23, 32, and 40 seconds. Thus none emptied. At the third stroke, it will be 23, 32, and 50 seconds. Remake serenity of peace. At the third stroke, it will be 23, 33, precisely. Precious, most precious. At the third stroke, it will be 23, 33, and 10 seconds. A blood moon. At the third stroke, it will be 23, 33, and 20 seconds. Like felt like. At the third stroke, it will be 23, 33, and 30 seconds. Free in falling suspension. At the third stroke, it will be 23, 33, and 40 seconds. Keepers of plutonic birth. At the third stroke, it will be 23, 33, and 50 seconds. That's precaution stratifying. At the third stroke, it will be 23, 34, precisely. Birds never flow. At the third stroke, it will be 23, 34, and 20 seconds. Swift heights sublimed. At the third stroke, it will be 23, 34, and 40 seconds. T, emphasizing steadiness. At the third stroke, it will be 23, 34, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 23, 35, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 35, and 20 seconds. Words to alternate worlds. At the third stroke, it will be 23, 35, and 20 seconds. Evidence of decay. At the third stroke, it will be 23, 35, and 30 seconds. See, tell, Ilake. At the third stroke, it will be 23, 35, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 23, 36, precisely. Over, time, over. At the third stroke, it will be 23, 35, and 20 seconds. Time, over, time. At the third stroke, it will be 23, 36, and 20 seconds. Over, times, reality. At the third stroke, it will be 23, 36, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 23, 36, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 23, 36, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 23, 37, and 10 seconds. At the third stroke, it will be 23, 37, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 37, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 23, 37, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 23, 37, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 23, 38, precisely. At the third stroke, it will be 23, 38, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 38, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 38, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 38, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 23, 38, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 23, 39, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 39, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 39, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 39, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 23, 40, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 40, precisely. At the third stroke, it will be 23, 40, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 40, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 40, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 40, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 40, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 41, precisely. At the third stroke, it will be 23, 41, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 41, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 41, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 41, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 23, 42. Precisely. At the third stroke, it will be 23, 42, and 10 seconds. At the third stroke, it will be 23, 42, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 42, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 23, 42, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 23, 42, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 23, 43. Precisely. Like letting go. At the third stroke, it will be 23, 43, and 10 seconds. At the third stroke, it will be 23, 43, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 43, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 23, 43, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 23, 44, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 44, and 10 seconds. At the third stroke, it will be 23, 44, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 45, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 44, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 23, 45, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 45, and 10 seconds. At the third stroke, it will be 23, 45, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 45, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 23, 46, precisely. At the third stroke, it will be 23, 46, and 10 seconds. At the third stroke, it will be 23, 46, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 46, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 23, 46, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 23, 46, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 23, 47, precisely. At the third stroke, it will be 23, 47, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 47, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 47, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 47, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 48, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 48, precisely. At the third stroke, it will be 23, 48, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 48, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 48, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 48, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 48, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 23, 49, precisely. At the third stroke, it will be 23, 49, and 10 seconds. At the third stroke, it will be 23, 49, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 49, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 23, 49, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 23, 49, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 23, 50, precisely. At the third stroke, it will be 23, 50, and 10 seconds. At the third stroke, it will be 23, 50, and 20 seconds. At the third stroke, it will be 23, 50, and 30 seconds. At the third stroke, it will be 23, 50, and 30 seconds. Poi tredje slag, è 23, 50, 50. Poi tredje slag, è 23, 51, 0. Poi tredje slag, è 23, 51, 10. Poi tredje slag, è 23, 51, 20. Poi tredje slag, è 23, 51, 30. Poi tredje slag, è 23, 51, 40. Poi tredje slag, è 23, 51, 50. Poi tredje slag, è 23, 52, 0. Poi tredje slag, è 23, 52, 10. Poi tredje slag, è 23, 52, 20. Poi tredje slag, è 23, 52, 30. Poi tredje slag, è 23, 52, 40. Poi tredje slag, è 23, 52, 50. Poi tredje slag, è 23, 53, 0. Poi tredje slag, è 23, 53, 10. Poi tredje slag, è 23, 53, 20. Poi tredje slag, è 23, 53, 30. Poi tredje slag, è 23, 53, 40. Poi tredje slag, è 23, 54, 0. Poi tredje slag, è 23, 54, 10. Poi tredje slag, è 23, 54, 20. Poi tredje slag, è 23, 54, 30. Poi tredje slag, è 23, 54, 50. Poi tredje slag, è 23, 54, 50. Poi tredje slag, è 23, 55, 0. Poi tredje slag, è 23, 55, 10. Poi tredje slag, è 23, 55, 0. 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 Poi tredje slag, è 23, 56, 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 0. Poi tredje slag, è 23, 57, 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 0. Poi tredje slag, è 23, 58, 0. Poi tredje slag, è 23, 58, 10. Poi tredje slag, è 23, 58, 20. Poi tredje slag, è 23, 58, 0. Poi tredje slag, è 23, 58, 0. Poi tredje slag, è 23, 59, 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 0. Poi tredje slag, è 24, 0, 0. Poi tredje slag, è 23, 59, 0. Poi tredje slag, è 23, 59, 0. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.